Salve a tutti, ben ritrovati a questa serie di speciali tutti dedicati alla Danza dei Draghi, la guerra di successione fratricita avvenuta tra il 129 e il 131 dopo conquista sotto la dinastia Targaryen. In questo episodio speciale ci concentreremo nello specifico sulla timeline degli eventi che si susseguono da quel fatidico concilio del 101 che molti, compresi noi, identifichiamo come radice alla base della futura guerra, fino all'incoronazione di Rhaenyra, che segna in definitiva l'inizio del conflitto. Perché questo arco temporale? Perché è quello che copre anche la prima stagione della serie TV House of the Dragon. Come da titolo, infatti, vogliamo mettere a confronto i due media e capire in che modo differiscono, soprattutto come il cambio di timeline abbia influenzato la narrazione degli eventi. Di conseguenza, come affronteremo l'argomento nell'episodio nella maniera più semplice possibile? In una prima parte, dettaglieremo gli eventi di qui sopra, anno dopo anno, seguendo gli highlights della storia raccontata in The Rogue Prince, The Princess and the Queen e Fire and Blood. Ergo, parleremo di libri. Nella seconda parte, Bea farà la stessa cosa, ma tenendo presente la serie TV, quindi parlando della timeline parallela che descrive gli eventi mostrati nella prima stagione di House of the Dragon. Nella terza e ultima parte, Filippo e Domenico faranno un veloce ma dettagliato escurso su quello che potenzialmente saranno gli eventi che vedremo nella seconda stagione di House of the Dragon, disegnando un'ipotetica timeline per gli episodi che vedremo quest'estate. Ragazzi, quest'estate, attenzione. Stiamo arrivando. Manca a dirlo, dopo la seconda stagione faremo un altro episodio del genere, distinguendo tra le timeline degli eventi raccontati nei libri e la timeline degli eventi raccontati nella serie TV, quindi questa cosa non vi lascerà mai. Spoiler warning, parleremo di tutto e tutti. Game of Thrones, House of the Dragon, i cinque libri canonici, potenzialmente i capitoli inediti di The Winds of Winter, Il mondo del ghiaccio e il fuoco, Fire and Blood, Duncan Egg, eccetera, siete avvisati. Avvisiamo inoltre che tendiamo a non usare la traduzione italiana comune, le traduzioni saranno prevalentemente nostre. E adesso, sigla. Domenico, come ti è sembrata questa cosa? Ah, che figata! Oh, la tua prima sigla! Sì, è bello, questa è la prima sigla dal vivo così. Madonna, ce l'avevo sentita perché mi ho guardato, però che bello, raga, essere il primo qua. Ovviamente sappiate che faremo questa gag tipo fino all'infinito. Però è bellissima, a parte che è un ritorno alle origini questa sigla, nel senso che era il modo in cui compariva una volta anni fa. Esatto, molto. E poi ora che siamo tutti qui è comunque meraviglioso, raga, essere il tuo qua. Finalmente sono libera. Ah, un uomo libero! Lo ritroverete tipo ovunque e comunque, soprattutto a febbraio. Guardate che è un grande ritorno quello di domani, un grande ritorno. Grazie, siete troppo buoni. Però ci siamo molto felice. Come continuare? Allora, continuiamo così. Dal concilio del 101 all'incoronazione di Rhaenyra a Dragonstone passano circa 28 anni, durante i quali ha regnato per la maggior parte il re Viserys Primo Targaryen, designato erede proprio grazie al voto dei Lorda del concilio di Arenal. Quindi iniziamo proprio da lì. 101 dopo conquista. Sappiate che io nello script ho scritto DC, quindi se mi vedete dire dopo Cristo, non preoccupatevi. Sappiate che vuol dire dopo conquista. Vabbè, io ho scritto AC che sarebbe after the conquest. Solo che mi viene avanti Cristo proprio. Avanti Cristo, ottimo. Noi precediamo. Allora, quindi o è dopo Cristo e poi DC. Vabbè, lasciamo stare. Comunque, dopo la morte del principe Baelon, re Gerys Primo Targaryen deve nominare nuovamente un nuovo erede. Il re convoca il primo Gran Concilio, in modo che i signori di Westeros possano decidere tra l'unico figlio della principessa Renis, Lenor Velaryon, e il figlio maggiore del principe Baelon, il principe Viserys. Quest'ultimo viene scelto con la maggioranza di voti. 103 DC. Gerys Primo Targaryen muore, e Viserys Primo viene incoronato il re dei Sette Regni. 104. Torneo di Maidenpool per celebrare l'incoronazione del giovane re. Rhaenyra Targaryen, la sua unica figlia, ha sette anni. Al torneo, Ser Criston Cole attira l'attenzione della corte dopo aver vinto la mischia e aver consegnato alla principessa Rhaenyra l'oro del vincitore. Nelle liste sconfigge, quindi, Criston Cole sconfigge il principe Daemon Targaryen di nuovo, il gemellico Argyll, Sereric e Sereric, poi è prima di soccombere al Lord Lymon Mallister. Grande cuore di Filippo. Lo stesso anno, Rhaenyra diventa una Dragonrider, reclamando il drago Syrax. Sempre nel 104, Daemon Targaryen, il fratello minore del re, viene destituito dall'incarico di maestro del conio e nominato invece maestro delle leggi. Sei mesi dopo, lo stesso viene destituito da maestro delle leggi e nominato comandante della guardia cittadina. 105. La regina Emma Arryn muore di parto, tentando di dare alla luce Baelon Targaryen, l'erede maschio di Viserys Primo. Il piccolo muore il giorno successivo. Nello stesso anno, se il re Mandredwain, il comandante delle guardie reali, muore in circostanze misteriose. Ser Criston Cole viene appuntato a guardia reale come re in piazzo. Serar Lord Westerling viene nominato Lord Comandante dell'Ordine. Nel frattempo, Lord Lionel Strong di Arnall arriva a corte. Quest'ultimo viene disegnato nuovo maestro delle leggi, mentre i due suoi figli, Serar Ruin Strong e Laris Strong, vengono assegnati in ordine i seguenti ruoli, capitano delle Cappe Dorate e Lord Confessore. Dopo l'improvvisa morte della madre e del figlio, Viserys Primo dichiara a Rhaenyra la sua unica erede e la rende principessa di Dragonstone, titolo specificatamente dedicato agli eredi al trono di spade. Dopo aver dichiarato ufficialmente la figlia Rhaenyra sua erede, il re Viserys si impone a centinaia di lordi e cavalieri di prestarle obbedienza e di giurare di difendere il suo diritto di successione. Il principe Daemon si ritira poi a Roccia del Drago in preda alla furia con la sua amante, Miseria. Da Fire and Blood. Così andarono le cose da prodo del re alla fine dell'anno 105 dopo conquista, quando la regina Emma fu portata a letto nel fortino di Maegor e morì mentre dava alla luce il figlio che Viserys Targaryen aveva desiderato a lungo. Il bambino, chiamato Baelon dal nome del padre del re, le sopravvisse solo un giorno, lasciando il re e tutta la corte sconvolti e affranti, tranne forse il principe Daemon, che fu osservato in un bordello sulla via della seta mentre faceva battute da ubriaco con i suoi compagni di alto lignaggio sull'erede per un giorno. Quando l'onizia giunse al re, Viserys si infuriò. Sua grazia ne aveva finalmente abbastanza del fratello Ingrato e delle sue ambizioni. Una volta che il lutto per la moglie e il figlio ebbe fatto il suo corso, il re si mosse rapidamente per risolvere la questione della successione, da tempo in sospeso. Ignorando i precedenti stabiliti da Jairys nel 92 e dal Gran Concilio nel 101, Viserys dichiarò la figlia Rhaenyra sua legittima erede e la nominò principessa di Roccia del Drago. In una sontuosa cerimonia del prodo del re, centinaia di lord giurarono obbedienza alla delizia del re Ame mentre lei si deve ai piedi del padre alla base del trono di spade, giurando di onorare e difendere il suo diritto di successione. 106, dopo conquista, re Viserys sposa la figlia del suo primo cavaliere, Otto Hightower, Alicent, a 18 anni. Rhaenyra ne ha 9. Questo ha alienato sia il principe Daemon che Lord Corlys Velaryon che hanno ignorato il matrimonio e hanno cercato di ritagliarsi il proprio regno dando inizio all'invasione delle Stepstones. Quindi, tra il 106 e il 115 c'è la famosa conquista delle Stepstones. Il principe Daemon si allea con Lord Corlys Velaryon per conquistare le isole, un conflitto che alla fine coinvolge la triarchia e Dorne. Abbandona le isole nel 115 quando sposa Lena Velaryon. Altri cinque re del mare stretto lo seguirono in un breve periodo di tempo prima che il regno di Daemon cadesse. 107, dopo conquista, Alicent dà alla luce il suo primo figlio. Nasce quindi Aegon I Targaryen, quello che tra poi Aegon II Targaryen. 108, dopo conquista, nasce a Winterfell un certo Gregan Stark, Lord Rickon Stark e Lady Ghislaine Glover. Lo stesso anno muore Kragas Drahar, detto il Crabfeeder, ucciso in battaglia dal principe Daemon. Inserisco questi personaggi perché evidentemente non hanno un ruolo nella danza dei draghi, quindi bisogna anche capire che età abbiano alla fine. Comunque, postilla dopo episodio, vi faremo capire un po' di che si tratta. 109, nasce Elena Targaryen, la seconda figlia di re Viserysi della regina Alicent. Serothite Tower viene privato del suo titolo di primo cavaliere e al suo posto verrà nominato Lord Lionel Strong. Nello stesso anno Daemon si dichiara re delle Stepstones e del mare stretto. 110, nasce Aemon Targaryen, il terzo genito di Viserys e Alicent. La regina ha 22 anni, Rhaenyra ne ha 13, Aegon ne ha appena 3. 111, dopo conquista. In onore del quinto anniversario del matrimonio di re Viserysi della regina Alicent si tiene un torneo in capitale. Durante la festa di apertura, Alicent indossa un abito verde e la principessa Renina Targaryen veste i colori nero e rosso della sua casata. D'ora in poi, il partito della regina e quello della principessa saranno conosciuti come i verdi e i neri. Ser Criston Cole, con il favore della principessa Renira, disarciona tutti i campioni verdi, compresi Ser Gwain Knight Tower e due cugini della regina Alicent. Il principe Daemon si presenta al torneo, si inginocchia davanti al re e gli offre la corona delle Stepstones. I due fratelli si riconquigliano e Daemon torna a corte. Sembrissi dopo il torneo, re Viserys e Cécile nuovamente Daemon. Secondo Moostrom, è questo l'anno del primo scandalo sessuale di Rhaenyra. Vediamo di che si tratta. La principessa Renira era tutt'altra cosa. Daemon trasporreva lunghe ore in sua compagnia, affascinandola con i racconti dei suoi viaggi e delle sue battaglie. Le regalava perle, sete, libri e un dienne maniggiata che si diceva appartenesse all'imperatrice di Leng. Le leggeva poesie, pranzava con lei, andava a caccia, navigava con lei, la intratteneva prendendosi gioco dei verdi di corte, dei leccapiedi che adulavano la regina Alicent e i suoi figli. Nello dò la bellezza, dichiarandola la fanciulla più bella di tutti i sette regni. Lo zio e la nipote iniziano a volare insieme quasi ogni giorno, gareggiando con Cyrax contro Caraxes fino a Roccia del Drago e ritorno. Qui le nostre fonti poi divergono. Il gran maestro Runciter dice che i fratelli litigarono di nuovo e che il principe Daemon lasciò a prodo il re per tornare alle Stepstones e alle sue guerre. Non parla della causa del litigio. Altri sostengono che Viserys abbia mandato via Daemon su richiesta delle regine Alicent, ma Septoniust e Seifungo raccontano un'altra storia, o meglio, due storie, ognuna diversa dall'altra. Eustace, il meno volgare dei due, scrive che il principe Daemon sedusse sua nipote, la principessa, e ne reclamò la verginità. Quando gli amanti furono scoverti insieme da Seraric Cargill, della Guardia Reale portati al cospetto del re, Raniera insistette che era innamorata dello zio e implorò il padre di poterlo sposare. Re Viserys però, non ne vuole sapere, ricordò alla figlia che il principe Daemon aveva già una moglie. Adirato, confinò la figlia nelle sue stanze, disse al fratello di andarsene e ordinò a entrambi di non parlare dell'accaduto. La storia raccontata da Fungo è un po' più depravata, leggermente, come spesso accade con le sue testimonianze. Secondo il Naro era Ser Criston Cole che la principessa desiderava, ma il principe Daemon, non il principe Daemon, ma Ser Criston era un vero cavaliere, nobile e casto e memoria ai suoi voti e sebbene fosse in sua compagnia giorno e notte non l'aveva mai nemmeno baciata e ne aveva fatto alcuna dichiarazione d'amore. Quando ti guarda vede la ragazzina che eri, non la donna che sei diventata, disse Daemon alla nipote, ma posso insegnarti a farti vedere come una donna. Nel 112, quindi siamo anno 112, dopo conquista. Nasce a Riverrun Kermit Tully che è figlio ed erede di Elmo Tully che non è ancora lord di Riverrun perché come ci ricorda Filippo il lord Riverrun a quell'epoca era ancora Glover Tully. Nello stesso anno poi Ser Harold Westerling lord comandante delle guardie reali muore e al suo posto viene nominato Ser Criston Cole. 113 La principessa Rhaenyra che ha in questo momento 16 anni prende possesso di Dragonstone che diventa la sua residenza ufficiale. Per anni è stata corteggiata da molti lord e nobili che chiedevano la sua mano in suo favore. I figli lord Blackwood e Bracken avevano duellato per la principessa di Roccia del Drago quando aveva visitato il Tridente nel 112 e il cosiddetto Stolto Frey aveva chiesto la sua mano. I due cavalieri gemelli Jason e Tyland Lannister la corteggiarono a Castelgranito e anche i figli di Lord Oakheart Tarly Tully e Tyrell le facevano la corte. Anche Serar Winstrong figlio di Lord Lionel Strong corteggia la principessa. Re Viserys I Targaryen pensò poi di farla sposare con il principe Coren Martell per far entrare Dorne ai Sette Regni mentre la regina Ali senti meditava un matrimonio tra Rhaenyra e il figlio maggiore il principe Aegon Targaryen. 114 dopo conquista la principessa Rhaenyra sposa Ser Laenor Velaryon figlio di Lord Corlys Velaryon della principessa Rhaenyse Targaryen conosciuta come The Queen Who Never Was la regina che non fu. Il giovane era stato reso cavaliere due settimane prima del matrimonio. Sempre nel 114 Ser Geoffrey Lonemouth muore sei giorni dopo avere combattuto contro Ser Criston Cole nella mischia organizzata per celebrare le nozze tra la principessa e l'erede di casa Velaryon. Più tardi nello stesso anno nasce il primo genito della principessa Rhaenyra il principe Geserys Velaryon. Nasce anche il principe Daeron Targaryen il quarto figlio di Viserys e Alicent. Da Fire and Blood Septoniustus dice che cade sulle ginocchia di suo padre e implorò il suo perdono. Mushroom invece racconta che sputò in faccia al padre ma entrambi concordano sul fatto che alla fine consentì al matrimonio si tratta di Rhaenyra. Anche in questo caso le nostre fonti divergono. Quella notte riferisce Septoniustus Ser Criston Cole si intrufolò nella camera da letto della principessa per confessarle il suo amore. Disse a Rhaenyra che c'era una nave che lo aspettava nella baia e la pregò di fuggire con lui attraverso il maestretto. Si sarebbero sposate a Tyrosh o nell'antica Volantis dove suo padre non aveva potere e a nessuno sarebbe importato che Ser Criston avesse tradito i suoi voti come membro della guardia reale. La sua abilità con la spa della Morningstar era tale che non dubitava di poter trovare qualche principe mercante che lo avrebbe preso in servizio. Ma Rhaenyra lo rifiutò gli ricordò che lei era il sangue di Drago e che era destinata a qualcosa di più che vivere la sua vita come moglie di un comune mercante e se lui poteva mettere da parte i voti della guardia reale perché mai i voti matrimoniali avrebbero dovuto significare qualcosa per lui. Ungo racconta una storia molto diversa invece. Nella sua versione fu la principessa Rhaenyra ad andare da Ser Criston e non lui da lei. Lo trovò solo nella torre della spada bianca sprengò la porta e si tolse il mantello per rivelare la sua nudità. Questa è Cersei. Cersei con Jamie. Sì, è uguale. È esattamente. È uguale. È esattamente la stessa cosa. Tuttavia, nonostante la sua bellezza le sue suppliche caddero nel vuoto perché Ser Criston era un uomo d'onore e fede alle sue voti. Anche quando Rhaenyra usò le arti che aveva imparato dallo zio Daemon Cole non si lasciò influenzare. Disprezzata e furiosa la principessa indossò di nuovo il mantello e uscì nella notte. Dove incontrò per caso Ser Arruinstrong di ritorno da una notte di pagordi nelle taverne della città. Brakebond desiderava da tempo la principessa e non aveva gli scrupoli di Ser Criston. Fu lui a prendere l'innocenza di Rhaenyra versando il sangue della sua fanciulla sulla spada della sua verità secondo fungo che sostiene di averli trovati a letto all'alba. Comunque sia sia che la principessa disprezzasse il cavaliere sia che lui la disprezzasse da quel giorno l'amore che Ser Criston Cole nutriva per Rhaenyra Targaryen si trasformò in disgusto e disprezzo e l'uomo che fino a quel momento era stato il compagno e campione costante della principessa divenne il più acerrimo dei suoi nemici. In tutto ciò Martin è fissato con la metafora fallica della spada che sono dappertutto. No, comunque praticamente questa cosa. Terrificante terrificante non chiedetemi altro. Poi 115 non stiamo assolutamente arrivando sono successo un casino di cose in questi anni. Nasce il principe Lusris Velaryon il secondo genito del principe Serenira e del principe consorte Lenor Velaryon. Nasce anche Larra Rogare che in futuro diventerà la moglie del principe Viserys Targaryen secondo genito del principe Daemon e della principessa Serenira. Muore Rea Royce la prima moglie del principe Daemon. La Lady muore giorni dopo una battuta di caccia da cavallo. Muore anche il figlio del Signore del Mare di Braavos che era stato promesso sposo di Lady Lena Velaryon per dieci anni. Muore combattendo contro Daemon Targaryen. Vedi poi le coincidenze questi due poi si sposano dopo che finisce la guerra alle Stepstones. 116 Nascono quindi le gemelle Reina e Bella Targaryen. Entrambe nascono nella città libera di Pentos dove i coniogi risidevano all'epoca. I coniogi sono Lena e Daemon. 117 Si sono sposati in tutto ciò. Si si sono sposati a faccia dei rispettivi coniogi morti. Sottointeso. 117 quindi nasce il principe Geoffrey Velaryon il terzo genito di Rhaenyra e Leanor. Rhaenyra qua ha 20 anni Alicentai Tower ne ha 29. 20 anni tre figli e matrimoni alle spalle. Va bene. Uh un bel respiro. Bello Marti. Allora 118 Io penso che tre sia veramente tanto comunque per una ventenne. Cioè anche considerando proprio cioè volendo dire tre sono veramente tanti. Ma poi Martin veramente li fa uno dopo l'altro. Anche Alicent ne ha tre nel giro di quattro anni. Sì sì sì. Uno dopo l'altro. Cioè che io non penso sia fisicamente proprio difficilissima come cosa. No non è difficile è assolutamente fattibile però diciamo piano piano più che altro anche Viserys dico tu hai avuto una moglie che ti è morta di parto e di gravidanze così difficili esatto direi anche calmati però ecco siamo qua No luce luce all'ansia no luce all'ansia è che sì però tre gravidanze in quattro anni significa no ma stai fuori cioè significa veramente che non poi ovviamente cioè va tutto bene al primo corso è sempre la regola del primo corso sempre così regola di Martin sì sì ma poi si vede che Martin non ha figli comunque c'è da dire da questo punto di vista cioè proprio convinto che funzioni così non ha capito bene come nascono i bambini no no non penso proprio vabbè andiamo avanti andiamo avanti 118 quindi nasce Benjicot Blackwood figlio ed erede di Lord Samuel Blackwood 120 è l'anno della primavera rossa è un anno infernale per il regno di Viserys I segnato da quattro grandi tragedie le prime due sono state la morte di Leina e quella morte di Leinor Velaryon e allora Leina qua aveva 27 28 anni e Leinor ne aveva 26 la prima more di parto il secondo assassinato a spy stand dal suo presunto amante Carl Correy in terza tragedia il principe Aemon Targaryen che ha 10 anni perde un occhio in una lotta contro il giovane cugino il principe Luserys Velaryon che ne ha 5 quindi immaginatevi questo scricciolo a 5 anni con un coltello che infilsa l'occhio dell'azio ok che ha 10 anni che ha 10 anni di solito i bimbi a 10 anni potrebbero sopraffare in 2 secondi quello di 5 però ok va benissimo si vede che Martin non ha l'origine del conflitto è da ritrovarsi nella reclamazione del drago Vager drago che precedentemente era stato di Leina Velaryon infine un grande incendio d'Arnal causa la morte di Lord Lionel Strong primo cavale del re e del suo re ad essere Arwin l'anno si conclude però con una grande gioia dopo il loro matrimonio la principessa Rhaenyra Targaryen e il principe Daemon hanno accolto la nascita del loro primo figlio il principe Aegon che sarà in futuro conosciuto come Aegon III è successo che si sono sposati in gran segreto dopo la morte dei loro rispettivi mariti e che probabilmente Rhaenyra era già incinta molto prima ma questo non c'è problema nessuno lo sa nessuno lo sa 122 nasce Viserys Targaryen anche lei ha gravidanze una dopo l'altra 122 nasce 120 nasce Aegon 122 Viserys che sarà il futuro Viserys II si sposano in tutto questo nell'anno Aegon ed Elena 123 nascono i gemelli Gerys e Geera figli del principe Aegon e della principessa Elena 126 nasce uno dei bastardi del principe Aegon il futuro Aegon II Gaemon Pelaire nello stesso anno Sir Gaemon Velaryon viene giustiziato dal principe Daemon Targaryen per aver affermato che i tre figli maggiori della principessa Rhaenyra erano bastardi nel frattempo si teme per la vita di Lord Corlys allettato scusate a causa di una strana febbre stiamo finendo stiamo arrivando 126 ma tra l'altro è interessante vedere poi cioè questa andrebbe veramente fatta con lo schemino così per anno in cui sono tutte le nascite dell'anno in verità tra l'altro se andate a vedere nella wiki nella settore speciale timeline e poi c'è tipo un dettagliato l'anno dopo anno ci sono un paio di errori da sistemare non è così dettagliata non è così non è così giusta cioè io per esempio ho notato che nella wiki a un certo punto mi dà l'anno l'anno del matrimonio tra Leanor e Rhaenyra un anno prima rispetto a quando è avvenuto però ci stanno ci stai due secondi poi a confrontare la pagina wiki vera con la timeline dicevo sarebbe di fatto nel 115 giusto? sì 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 il matrimonio tra Lena scusate tra Rhaenyra e Rhaenyra sì sì e sarebbe nel 115 sì mentre la wiki riparta al 114 non so perché poi la salute del re quindi nel 127 inizia a deteriorarsi il primo giorno dell'anno Reviserys tiene in banchetto per celebrare la sua guarigione dall'amputazione di due dita la fazione verde e nera compiono atti di apparente riconciliazione anche se quando il re se ne va lo scontro gli esplode Reviserys sembra recuperare un po' di vigore con le cure del gran maestro Orwa e la base di pozioni e miscele ma il miglioramento è di breve durata lo stesso anno nascono il principe Maelor ultimo figlio di Aegon ed Elena e Lady Denara Velaryon che in futuro sarà la seconda moglie di Aegon terzo e madre dei suoi cinque figli 128 la salute del re Viserys peggiora non riesce più a salire le scale e deve essere portate in giro per la fortezza rossa su una sedia il governo del regno viene quindi lasciato nelle mani del primo cavaliere del concilio ristretto 129 fatidico anno muore Re Viserys Targaryen il terzo giorno del terzo mese dell'anno e inizia la danza nello stesso anno sia Aegon II che Rhaenyra vengono incoronati e dichiarati Re Regina dei Sette Regni il primo viene incoronato con la corona di Aegon il conquistatore durante una cerimonia in capitale da Ser Criston Cole il loro comandante è la guardia reale poi da ora in avanti conosciuto come Kingmaker mentre la seconda viene incoronata a Dragonstone con la corona appartenuta prima a Gerys primo e poi a suo padre Viserys incoronata dal marito il principe Daemon la notizia della morte del sovrano indurrà poi un parto prematuro a Rhaenyra che allora era incinta per la terza volta del suo secondo marito nascerà da lei una bambina Visenia Targaryen deforme con sembianze draconiche Rhaenyra accuserà i verdi della morte di sua figlia i verdi e King's Landing chiamano in gran segreto un loro concilio per organizzare il colpo di stato che li porterà al potere durante il concilio faranno fuori Sel Lyman Bisbury uno tra i presenti a rimanere fedele al giuramento fatto a Viserys I i neri a Roccia del Drago organizzano i primi incontri per le alleanze della guerra il principe Jace andrà al nord col suo drago Vermax per trattare con Lord Kragan Stark mentre il principe Luke col suo drago Arrax andrà a Capotempeste per trattare quei Baratheon purtroppo anche i verdi hanno mandato un loro emissario a Stromsend il principe Luke trova al castello lo zio Aemond e il drago Vager la tragedia che si abbattò su Luserys Velary una Capotempesta non era mai stata pianificata su questo concordano tutte le nostre fonti le prime battaglie della danza dei draghi furono combattute con penne e corvi con minacce e promesse decreti e manipolazioni l'assassinio di Lord Bisbury al concilio verde non era ancora del tutto noto i più credevano che la sua signoria stesse ristagnando in qualche regione mentre diversi volti familiari non si vedevano più a corte nessuna testa era apparsa oltre le porte del castello e molti speravano ancora che la questione della successione potesse essere risolta pacificamente lo straniero però aveva altri piani perché di certo c'era la sua terribile mano dietro il caso avverso che aveva fatto incontrare i due principi e cavo tempesta quando il drago Arrax volò davanti a una tempesta crescente per portare Lusaris Velaryon al sicuro nel cortile del castello solo per trovare Aemon Targaryen lì davanti a lui fuori la tempesta infuriava i tuoni si abbattevano sul castello le piogge cadeva a catinelle e di tanto in tanto grandi lampi bianchi e blu illuminavano il mondo come il giorno era un brutto tempo per volare e anche per un drago e Arrax stava lottando per rimanere in volo quando il principe Aemon montò su Vagar e lo inseguì se il cielo fosse stato sereno il principe Lusaris avrebbe potuto superare il suo inseguitore perché Arrax era più giovane e più veloce ma il giorno era nero come il cuore del principe Aemon dice Fung e così accadde che i draghi si incontrarono sopra la baia dei naufragi gli spettatori sulla mura del castello videro lontani scoppi di fiamme e udirono un urlo che tagliava il tuono poi le due bestie furono bloccate insieme quei fulmini che crepitavano attorno a loro Vagar era cinque volte più grande del suo avversario il sopravvissuto indurito da un centinaio di battaglie se c'era stato un combattimento non può essere durato a lungo Arrax cadde spezzato per essere inghiottito dalle acque della baia spazzata dalla tempesta la sua testa e il suo collo finirono sulle scogliere sotto capo tempesta tre giorni dopo per diventare un baghetto per granchi e gabbiani Fungo sostiene che anche il cadavere del principe Lusaris sia stato portato a riva e ci dice che il principe Aemond gli abbia chiavato gli occhi e li abbia presentati a Lady Maris su un letto di alghe ma questo sembra eccessivo alcuni dicono che Vagar abbia strappato Lusaris dalla schiena del suo drago e l'abbia inghiottito è stato persino affermato che il principe si è sopravvissuto alla caduta abbia nuotato fino a salvarsi ma abbia perso ogni memoria di chi fosse trascorrendo il resto dei suoi giorni come un pescatore qualunque c'è una versione un po' improbabile eh sì comunque sentendola così c'è da dire che veramente non mi ricordavo quanto fosse utilizzata la versione di Fungo nella serie televisione è quella più utilizzata è quella più utilizzata sì in realtà non 100% perché si tende a fare un po' no non 60 però 70% però è quella comunque più sì però non so anche leggendo i libri a me è sempre sembrato sottinteso che la versione di Fungo fosse quella reale più affidabile in molti casi non in tutti però la cosa che mi meraviglia però è che non è quella utilizzata per Criston Cole e io pensavo di sì per Criston Cole è usata dalla di Septon News per Criston Cole è usata da Septon News sì 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 per Criston Cole sì per Daemon è usato sostanzialmente per Daemon è stato fatto un mix sì sì no beh sì mentre per Criston Cole è usato giusto sì sì ma ha anche senso perché Fungo comunque dovrebbe essere la corte di Elinira quindi probabilmente gli eventi legati a Criston Cole sono riferiti dal punto di vista opposto insomma cioè secondo me lui non è così dentro la corte verde da sapere tutti gli eventi dei verdi perché anche successivamente ricordo che durante la guerra Fungo fa un po' difficoltà a raccontare quello che avviene ecco alla corte dei verdi sì sì perché ovviamente nonostante quello che scrive Fungo non era dietro porte chiuse insieme a loro due e quindi poi dopo diciamo qualunque sia il motivo per cui Criston Cole ce l'ha morto con Rhaenyra di certo non l'avrebbe detto a lui però devo dire mi stupisce che Fungo che è un po' il narratore più sboccato quello delle versioni però sai cosa se tu ci pensi in parte ci si rifà la versione di Fungo sullo secondo scandalo di Rhaenyra perché c'è la questione che Fungo dice rifiutata da Criston Cole Rhaenyra praticamente si butta tra le braccia il primo che passa che è Arunestrong che più o meno è la cosa che succede però con Daemon e Criston Cole quindi diciamo un po' lo schema di Fungo ripreso ma inserendo il Criston Cole che ci racconta Eustace quello sì la cosa che mi meraviglia è che Fungo che è una fonte dei neri in qualche modo che al punto di vista dei neri di Criston Cole che è il nemico cioè noi da adesso da House of the Dragon tendiamo a vedere la cosa più Rhaenyra Alicent però nei libri Criston Cole è molto più colpevole è molto più ha un ruolo molto più centrale contro Daemon e quindi il fatto che sia descritto come il cavaliere in realtà il perfetto cavaliere della guardia reale mi ha sorpreso non me lo ricordavo non me lo ricordavo proprio sì no ma si dice continuamente che lui era un uomo d'onore un uomo che teneva i suoi voti eccetera eccetera si dice che Rhaenyra l'abbia rifiutato e quindi lui è diventato una peste si è diventato la peste nera lui di Rhaenyra ma a me sembra cioè Leonotoma praticamente ha un po' senso questa cosa comunque però ha la sua rigidità poi da guardia reale esatto la cosa è la rigidità poi viene tradotta in mi hai rifiutato anche solo una volta divento esattamente l'opposto mantenendo la mia rigidità perché soltanto un uomo scornato avrebbe potuto reagire in quel modo esatto non l'altro una donna non l'avrebbe fatta mai ma comunque no vero vero da questo punto di vista è vero stavo dicendo che è un po' in sé secondo me un po' beh sì l'abbiamo detto un sacco di volte eh no ci pensavo no no vabbè giusto ripetirlo nella serie tv è proprio quello e non ci sono dubbi però mi sembra rispondente tutto sommato anche ai libri sì guardandolo bene sì effettivamente è quel tipo di personaggio lì sì 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 in effetti poi c'è da dire che io davo per scontato che la serie prendesse questa vabbè poi adesso ne parla Bea però io davo per scontato che ci facesse vedere questa visione del rapporto fra Rhaenyra e Cristo ecco cioè non so voi io no sì cioè io per un attimo ho creduto alla versione io ero un po' interditto cioè la prima volta che ho letto Fire and Blood io tra le tante versioni ho sempre pensato vabbè fungo esagerato cioè io spesso e volentieri ho detto vabbè fungo troppo ora mi rendo conto invece che quella andare così verso il basso è proprio tipicamente da Marti in alcuni casi sì 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 io leggendo ho sempre diciamo avuto la versione di fungo come quella diciamo 80% delle volte corretta quando appunto non è lì e quindi spesso un altro motivo perché fungo secondo me contiene più verità che altro è perché i Targaryen vanno in basso cioè la barra è qua loro sono capaci di andare sotto terra vero I go low you go low I can go lower è così la loro filosofia è questa sì sì diciamo che anche banalmente perché in alcuni casi fungo è l'unico che ti dà la versione martiniana realistica cioè io penso al duello dei Cargill è lì che voleva arrivare cioè lì è anche tutta quell'epica del duello che è montato per cui questi due che in verità si devono si dicono che si vogliono bene mentre si stanno per amare tutta quella roba lì invece fungo dice vabbè niente si sono incontrati io in realtà vorrei vederle tutte e due le cose ma infatti io penso che ci sia verità in entrambe in quel caso lì cioè potrebbe iniziare come un questi che si dicono tutte queste cose onorevoli amore fraterno poi dopo iniziano a tirarsi colpi ad ammazzarsi e finiscono ad insultarsi vicenda sì infatti stavo dicendo lì Martin ti porta a credere secondo me che è stata la prima la versione cioè in Fire and Blood perché la fa più lunga mettere la mano sul fuoco che i due si sono insultati e sono ammazzati in cinque minuti in Fire and Blood in Out of the Dragon ti do ragione Bea in Out of the Dragon spesso Out of the Dragon mixa le fonti è vero chi ci sta è una scelta secondo me secondo me è anche coerente è anche un vado per dire diciamo la verità sta nel mezzo non c'è una fonte che è pienamente affidabile ma spesso non è corretta nell'una nell'altra è anche un processo vero è anche se è così no però la sarà interessante anche perché Funko proprio cioè lì c'è Fire and Blood c'è tutta quella versione estremamente poetica montata in cui loro sono incontrate c'è questo duello lunghissimo e poi subito dopo trovi la versione di Funko che dice ah no si sono incontrati dopo dieci minuti erano morti tutte e due e dannosi degli impropri ed è durato pochissimo insomma questo duello per cui lì sarà molto interessante perché c'è proprio una demolizione del concetto epico che è molto martiniana soprattutto dopo quella roba lì cioè lui gioca continuamente con questa sua ironia metacritica del testo per cui prima costruisce il testo sul livello epico e poi lo delegittima subito dopo c'è una cosa che martin fa spesso e Funko lo utilizza spesso nella danza però appunto l'ho sempre valutato come vabbè sta cercando di legittimare un livello in verità non è la versione vera invece mi sono reso conto poi guardando anche la serie che la gente tende a concepire la versione di Funko come effettivamente abbastanza rispondente al vero evidentemente sì ma in realtà se pensi anche alla saga principale ci sono sempre questi momenti bassi anche insomma è una caratteristica di martin a maggior ragione con Targaryen cioè se io mi vedessi che so come dite voi un duello dei gemelli carcel tutto epico in cui insomma della versione Eustace direi ma cosa sto vedendo esatto non me l'aspetto e spero di non vederlo perché no 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 è vero questo è vero probabilmente cioè la cosa vai vai no vai vai no figurati su questo punto con i Targaryen ci si aspetta che vadano lower c'è una spiegazione molto semplice secondo me loro vengono dal periodo d'oro questo in realtà è il il regno di Viserys specialmente nell'ultimo periodo è un periodo di decadenza che viene subito dopo cioè periodo di splendore massimo periodo di decadenza che però risulta ancora splendore ma verso il giù verso il basso quindi si crea questo è tipico tipico di qualunque dinastia tu sei nel momento più alto poi vai scendendo però pensi ancora di poterti permettere delle cose quindi fai il peggio del peggio sì i costumi sono sono quelli che sono sono quelli che sono cioè è un po' non so la corruzione del Mos Maior io stavo pensando che sa proprio tanto quello che stava dicendo Chiara adesso sono fine del regno di Tiberio Caligula dopo lo splendore di Augusto Geris hai di Nostia Giulio Claudio di Nostia Flavia e poi esatto va bene anche tra le varie di Nostia perché poi la c'è la di Nostia degli Antonini proprio proprio Giulio Claudio tra l'altro ragazzi mi viene da dire gli Antonini io li collego a tipo Deron II cioè con dei sovrani che non sono non sono dei grandi cioè non so come dire non sono Egon il conquistatore non sono Geris il conciliatore però sono dei bravi sovrani che fanno il loro lavoro si riprendono là in mezzo c'è Meikar insomma c'è quella roba lì quindi un po' dopo ci sarà Meikar che che cos'è Meikar se non un traiano che è riuscito molto bene comunque possiamo dire è un traiano che ce l'ha fatto è un traiano che c'è un traiano che è che è arrivato in Persia comunque nel senso Meikar no però al di là di questo sono molte affinità tra i Targary e Giulio Claudio basta pensare a quest'aura sacramentale che hanno entrambi come dinastie cioè una dinastia che si legittima attraverso la discendente dalla discendenza di Enea e da Afrodite è un'altra invece che si è costituita appunto come gli ultimi del sangue puro che vengono da un altro continente che si sono trasferiti in quest'altro sono arrivati hanno postato la dinastia Aegon I Targaryen è quello là che fonda la dinastia anche col suo potere cerca di allearsi le persone cioè c'è tutta quella tecnica anche della clemenza tipicamente che viene riconosciuta a Cesare durante le guerre per cui riesce a far diventare i suoi nemici amici insomma ci sono dei tratti in comune secondo me poi peraltro forse la somiglianza maggiore è il fatto che Fire and Blood ricorda tantissimo le vite dei dodici Cesari è un po' quella l'idea sì 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 hai più narratori però hai sempre lo svetogno di turno che raccoglie tutto quello che ha e racconta le diverse storie quindi sì ma anche proprio che il fatto che vengono fuori quei rumori rimuoresi in quella maniera per cui il vociferare della corte che viene continuamente fuori ma vabbè anche pensando al personaggio di Giulia la figlia di Augusto e pensando poi a Renira ci sarebbero tante cose anche lì da dire c'è questa figlia che deve essere fatta sposare vabbè insomma che poi viene anche la viene mandata in esilio su un'isola va bene comunque basta il nostro impero romano questo è letteralmente il nostro impero romano guardi vai Bea allora passiamo un attimo invece alla serie tv o meglio facciamo ripercorriamo un attimo la timeline della prima stagione di House of the Dragon e facciamo contemporaneamente un confronto con la timeline dei libri che vi ha dettagliato finora Chiara dunque partiamo dall'anno 97 perché è quello della nascita di Renira questo è identico sia nella serie che nei libri è stato mantenuto uguale così come anche il Gran Concilio del 101 a Renal che vediamo nel cold opening del primo episodio questa sorta di prologo appunto nel 101 i lord di Westro si riuniscono in Gran Concilio per eleggere il successore di Jairus primo Targaryen e tra tutte le pretese solo due vengono veramente prese in considerazione arrivano al pilotaggio finale diciamo che sono quelle del principe Viserys e nella serie tv della principessa Renis non di Lenor che a questo punto nello show non è ancora nato poi ne parliamo più in dettaglio non è una grande differenza nel senso che anche nei libri in realtà la questione era se il titolo potesse passare attraverso la linea femminile quindi tramite Renis oppure no comunque il Gran Concilio legge Viserys e va bene nel 103 e qua ci manteniamo sempre con una timeline identica tra serie libri Viserys sale al trono quindi inizia il regno di Viserys primo e veniamo all'episodio 1 adesso vi ripercorriamo un attimo brevemente che cosa accade comunque vi dico già che l'episodio 1 è ambientato nella prima metà dell'anno 112 dopo conquista perché viene esplicitamente detto che a 9 anni di regno quindi 103 più 9 112 Raviserys organizza un torneo per celebrare la gravidanza della regina Emma sicuro che porterà in grembo l'erede maschio tanto atteso poi abbiamo Otto Hightower primo cavaliere del re che critica il principe Daemon per la sua brutalità come comandante della guardia cittadina perché appunto nel frattempo Daemon è stato nominato alla insomma alla guardia cittadina a guidare le cappe dorate poi abbiamo il torneo e qua ci arriviamo allora questi eventi che vi ho detto finora quindi Daemon che viene nominato alla City Watch che fa dei brutali rastrellamenti che vediamo anche nell'episodio le ostilità tra Otto e Daemon e anche altre cose che vediamo nell'episodio ad esempio il fatto che Daemon si prenda misaria come amante che porti dei doni a rinire dai suoi viaggi eccetera nei libri sono tutte citate come ambientate nell'anno 104 quindi c'è uno scarto temporale perché nello show già sono stati fatti dei salti temporali importanti farne ancora di più e ancora più lunghi sarebbe stato assolutamente impraticabile anche a livello di casting e anche incomprensibilità probabilmente della stagione quindi diciamo si inizia più tardi anziché nel 104 si inizia nel 112 e diciamo gli eventi sono sostanzialmente gli stessi tranne la questione del torneo nel senso che nei libri abbiamo la melee a maiden pulché quella in cui Criston Cole batte Daemon con la matta ferrata e anche nella giostra e poi abbiamo più avanti nel 111 il torneo di Teams Landing lo show fa un mashup tra il torneo del 104 e del 111 perché farne vedere due sarebbe stato sicuramente ripetitivo e quindi ne fa uno solo in cui appunto Criston Cole batte Daemon con la giostra con la matta eccetera come vi ricordate ma non è a maiden pur bensì è a King's Landing quindi insomma è un po' un mix delle due cose poi sempre in questo primo episodio muore Emma di parto Viserys la sacrifica insomma vabbè non stiamo a ripercorrere la scena ve la ricordate tutti il figlio appena nato Belon muore Otto rivela che Daemon ha definito il piccolo Belon appena morto hair for a day e indignato Viserys lo bandisce dalla capitale e nomina erete al trono di spade la principessa Remira rivelandole poi il famoso sogno di Aegon che lo ha ispirato a modificare Westeros quindi tutto questo nella serie avviene nella prima metà dell'anno 112 mentre nei libri siamo tra 104 e 105 perché la morte di Emma di parto la questione del hair for a day il giuramento di fedeltà dei lord a Emya sono invece nell'anno 105 quindi c'è questo scarto temporale poi passiamo all'episodio 2 c'è un time skip piccolino di 6 mesi circa poco meno di mezzo anno tra gli eventi dell'episodio 1 e 2 quindi siamo ancora nello show nell'anno 112 ma nella seconda metà cosa abbiamo visto in questo episodio Damon ha occupato illecitamente il castello di Dragunston il concilio ristretto diciamo snobba Rhaenyra e la manda a nominare la guardia reale e lei scegge Sir Criston Paul che è l'unico che ha avuto una esperienza di battaglia poi Otto manda Alice senta consolare il re in lutto e consiglia a Viserys di discutere con Rhaenyra del fatto che lui deve risposarsi quindi insomma si cerca di portare l'acqua al suo mulino piazzando la figlia come moglie per il re nel frattempo anche Corlys e Remis propongono invece a Viserys un matrimonio con le loro figlie a dodicenne Elena poi si risolve la questione di Dragunston nel senso che parte un distaccamento guidato da Otto e Tower ma soprattutto parte Rhaenyra su Cyrax ed è lei a costringere Daemon a rinunciare alle sue affermazioni a restituire l'uovo di Drago per cui insomma la questione con Daemon e Miseries si risolve e alla fine anche Viserys risolve la questione matrimoniale nel senso che annuncia la sua intenzione di sposare Alicent allora questo nei libri siamo sostanzialmente degli anni 105-106 cioè Christon Cole nominato alla Guardia Reale a seguito della morte di Ryan Redwyn e Daemon che va a Drago in son commisario sono nel 105 il matrimonio tra Viserys e Alicent è nel 106 quindi diciamo tutti gli eventi sostanzialmente tra il 104 e il 106 sono stati tutti strizzati nell'anno 112 nella serie poi abbiamo episodio 3 scusate riguardo all'età dei personaggi un piccolo appunto visto che Chiara le citava prima in questo secondo episodio sappiamo viene affermato direttamente che Renira ha 15 anni e che Elena ne ha 12 le due diciamo le due donne principali dello show quindi Renira e Alicent sono state rese coetanee quindi non hanno più 9 anni di differenza ma hanno la stessa età quindi show Alicent è nata anche lei nel 97 allora nei libri come dicevo c'è una differenza di 9 anni tra Renira e Alicent Alicent nei libri è nata nell'88 ovviamente tutto viene spostato in avanti Lena si dice che ha 12 anni ed è importante per la trama il fatto che sia così giovane perché anche nei libri c'è tutta la questione che Viserie si sente a disagio con un fidanzamento con una ragazzina così piccola la data di nascita di Lena nella serie tv è il 100 mentre nei libri è nata nel 93 questo proprio perché gli eventi diciamo 104-106 sono slittati nel 112 e quindi slitta di conseguenza anche la data di nascita di Lena questo ha implicazioni più ampie con riferimento al Gran Concilio del 101 come dicevo inizialmente perché nei libri i candidati gli ultimi due rimasti erano Viserys e Lenor Velaryon sebbene appunto in realtà la questione fosse un voto sulla linea di sangue di Renis sul fatto che il titolo potesse passare o meno per linea femminile però di fatto era Lenor il candidato nel locio questo non è possibile perché Lenor è fratello minore di Lena e nasce quanto meno nei libri è così probabilmente è uguale anche qua nasce un anno dopo per cui nell'adattamento televisivo al Gran Concilio del 101 Lenor semplicemente non è ancora nato quindi la questione nel cold opening del Gran Concilio non può essere tra Viserys e Lenor ma è diventato tra Viserys e Renis tra l'altro punto di domanda su questa cosa perché Lenor dovrebbe nascere proprio subito dopo mesi dopo il concilio ma quasi nello stesso anno però nel cold opening non vediamo Renis incinta quindi punto di domanda hanno un po' sfumato questa cosa infatti mi ha dato un po' sapore io può essere che non abbiano tenuto un solo anno di differenza come nei libri ma magari gli abbiano dato che so due anni di differenza giusto per provare un po' a sfumare questa cosa tra l'altro la cosa che si nota è che hanno appiattito le generazioni cioè hanno fatto generazioni di Viserys che è la stessa più o meno di Renis Renis si sa che è un po' più vecchia Corlys più o meno sta lì con Viserys poi hanno fatto generazioni dopo invece quella di Alice e di Renira che è di Leonor e di Lena cioè tutti e quattro praticamente nella stessa generazione e poi c'è una terza generazione che sarà quella dei figli di Alice e di Renire che le hanno anche lì appiattiti ovviamente mettendo questa cosa però effettivamente hanno provato a giocare su tre generazioni fisse piuttosto che doverle sfrangiare in questa maniera per cui tra un personaggio e un altro spesso passano cinque nove anni sei anni una volta dieci perché risulta più semplice insomma da capire poi secondo me si vede per esempio sulla generazione che Corlys e Renis sono un po' più vecchi di Viserys insomma si capisce questa cosa però anche lì di poco in verità sì è Viserys che li porta male sì 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 vabbè allora episodio 3 è l'episodio incentrato sulla caccia reale per il secondo compleanno di Aegon e anche sulla battaglia alle Stepstones nel senso che per tre anni Corlys e Daemon hanno combattuto che mangia granchi senza il supporto del trono di spade poi Daemon implora l'aiuto del re e alla fine Viserys si decide a inviare aiuti a fine episodio Daemon considerando il sostegno del fratello come la fine delle sue possibilità di dimostrare il proprio valore fa da escape tenendo un'imboscata al Crepfeeder vince la battaglia prima che arrivino le forze della corona comunque i due temi sono le Stepstones e la caccia per il secondo compleanno di Aegon allora viene affermato espressamente che la guerra delle Stepstones è iniziata tre anni prima quindi se all'inizio se nel primo episodio eravamo nel 112 qua siamo ovviamente nel 115 a livello di serie tv Rhaenyra di fatti ha 17 anni perché diciamo quest'anno ne deve compiere 18 ma il compleanno evidentemente non c'è ancora stato nei libri che cosa abbiamo allora Daemon uccide il Crepfeeder nel 108 quindi c'è sempre questo scarto temporale 108 115 la guerra delle Stepstones dura tre anni anche nei libri solamente che nei libri siamo ovviamente più indietro 106 109 almeno questa prima parte della guerra delle Stepstones quella che sconclude con la morte nel Crepfeeder mentre qua siamo 112 115 ovviamente a questo punto Aegon ha due anni per cui Aegon è nato nel 113 nello show passiamo all'episodio 4 è quello del tour di Rhaenyra per scegliere un consorte poi insomma non conclude niente c'è quel famoso duello Brac and Black se vi ricordate anche Daemon torna a corte dopo la conquista delle Stepstones si fa chiamare re del mare stretto ma giura fedeltà a Viserys consegnando la sua corona i fratelli si riuniscono e anche Alice e Rhaenyra sembrano riconciliarsi poi c'è diciamo è l'episodio dello scandalo sessuale di Rhaenyra che nello show è stato unificato nel senso che è un episodio solo non sono due come già dicevamo quindi si è presa per quanto riguarda Daemon un mix delle versioni per quanto riguarda Chris & Cole tendenzialmente la versione di Eustace anche se coi distingo che abbiamo fatto prima quindi Daemon e Rhaenyra vanno in città visitano un bordello Daemon la seduce ma poi la abbandona tornata alla fortezza rossa Rhaenyra seduce Ser Criston Otto viene informato dalla spia di Misaria Alicent la interroga lei giura di essere ancora vergine anche se non è vero Viserys affronta Daemon che sembra confermare le voci e propone anche di sposare Rhaenyra Viserys invece lo esilia nella valle e poi ordina Rhaenyra di sposare Lenor Velaryon viene licenziato Otto come primo cavaliere su richiesta di Rhaenyra e alla fine il gran maestro Mellos dà a Rhaenyra il tè della luna su richiesta di Viserys in questo episodio si dice che Aegon ha tre anni quindi è passato un altro anno rispetto all'episodio 3 Rhaenyra ha 18 anni e quindi siamo nell'anno 116 dello show per quanto riguarda i libri allora il licenziamento di Otto e nomina il suo posto di Lionel Strong è nel 109 il ritorno a corte di Daemon con la riconciliazione di Viserys e poi il primo scandalo sessuale la cacciata di Daemon da parte di Viserys sono nell'anno 111 il tour dei pretendenti di Rhaenyra lo scontro Brackle in Blackwood è nel 112 e il secondo scandalo sessuale di Rhaenyra e la decisione del matrimonio con Lennar avviene nel 113 tutto questo è condensato nell'anno 116 della serie tv di conseguenza vediamo che lo scarto temporale tra la timeline dei libri e quella dello show va riducendosi perché appunto la serie tv condensa in un periodo di tempo più stretto quello che nei libri succede in un numero maggiore di anni quindi lo scarto che all'inizio era 8 anni adesso praticamente si è ridotto a 3 passiamo all'episodio 5 che è diciamo seguo immediatamente il precedente poche settimane dopo giusto il tempo per riunirsi per il matrimonio reale quindi sempre nello show dell'anno 116 in questo episodio vediamo che Daemon causa la morte della moglie Lady Rhea Royce Rhaenyra parla con Lenor e i due si accordano per diciamo produrre eredi ma tenere in spettivi amanti Sir Criston viene umiliato da Rhaenyra perché lei rifiuta la sua proposta di fugire insieme ad Essos e Alicent lo interroga poi su Rhaenyra e Daemon e lui fraintendendo confessa di essere l'amante di Rhaenyra e poi c'è il famoso banchetto che è la celebrazione del fidanzamento di Rhaenyra e Lenor in cui Alicent entra con l'abito verde il colore della chiamata alle armi di casa di Tower anche Daemon è al banchetto così come lo è l'amante di Lenor Geoffrey Hommel che diciamo ipotizza che Criston sia l'amante di Rhaenyra Criston teme che questi lo vogliono ricattare e quindi lo uccide brutalmente c'è tutto quello di putiferio che c'è poi Rhaenyra e Lenor si sposano con una cerimonia intima la stessa notte e Alice interviene mentre Criston corsa per suicidarsi lo faccio essenzialmente diventare un suo uomo allora la morte di Rhea Royce nei libri è un anno prima quindi nel 115 anziché 116 così come il matrimonio tra Rhaenyra e Lenor Velaryon insomma 114 secondo la wiki 115 secondo noi ok vedete che lo scarto sia sottile sempre di più praticamente libri e show sono quasi arrivati a essere coincidenti e veniamo all'episodio 6 che è quello del grosso timeskip di 10 anni il più grande salto temporale dell'intera serie in cui i membri del cast vengono sostituiti dalle loro versioni adulte e si introducono molti figli dei personaggi principali quindi Emadar si sostituisce Emilia come Rhaenyra per cui adesso Rhaenyra ha 28-29 anni Olivia Cooke sostituisce Emily Carey come Alicent che ha la stessa età di Renira poi abbiamo una Lena Velaryon che ora ha 26 anni quindi Lenor dovrebbe averne circa 25 Egon ne ha 13 Elena ne ha 11 poi c'è Emond che insomma ne ha 10 penso insomma Renira e Lenor hanno avuto tre figli Jace Luke e il neonato Geoffrey Daemon nel frattempo ha sposato Lena Velaryon e ha avuto due figli Dela e Rena cosa accade in questo episodio piccolo recap si inizia a 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 Alicent però parla con il primo genito e gli dice che dovrà prepararsi a contestare la pretesa di Renira al trono di spade demone Elena sono a pentos con le figlie e dopo un travaglio agonizzante Elena ordine al suo drago vagar di incenerirla ehm per Criston che ora è al soldo di Alicent incita Sir Arwin ad attaccarlo lasciando intendere che Arwin è il padre dei figli di Renira come in effetti è Renira propone un matrimonio tra Jace e Elena ma Alicent lo rifiuta proprio perché crede che Jace sia un bastardo alla fine Arwin è costretto ad accompagnare suo padre ad Arrenal e a quel punto Laris reclusa tre criminali per far appiccare il fuoco ad Arrenal uccidendo suo padre e suo fratello e alla fine Renira trasferisce tutta la sua famiglia a Roccia del Drago portando con sé anche l'amante di Leonor Carl Corley dunque l'incendio ad Arrenal e qui si svolge nel 126 proprio perché appunto c'è un time skip di 10 anni quindi siamo nello show nel 126 rispetto all'episodio qui 5 che era nel 116 l'incendio ad Arrenal nei libri è nel 120 quindi torna ad allargarsi la forbice così come anche la morte e funeral di Lena velarion è sempre nel 120 nei libri qua torna ad esserci una forbice di 6 anni perché perché sostanzialmente diciamo gli attori che fanno i ragazzini altrimenti sarebbero stati solo più piccoli quindi si torna per forza di cose ad ampliare la forbice episodio 7 Driftmark che è sempre nel 126 pochi giorni dopo il precedente è quello del funerale di Lena Rhaenyra e i demon si riuniscono e fanno l'amore Emon rivendica Vaggar c'è l'alterco con i pugini e Lucerys gli taglia l'occhio Alicent si lancia contro Lucerys con il pugnale di acciaio di Valyria Rhaenyra la blocca ma si ferisce e alla fine Viserys decreta che chiunque metta in dubbio la legitimità dei figli di Rhaenyra sarà punito alla fine dell'episodio sembra che Carl Correa abbia ucciso Lenor ma in realtà Lenor ha solo simulato la sua morte e fugge da Driftmark con lui i demoni e Rhaenyra si sposano privatamente con una cerimonia nell'antica tradizione di Valyria come dicevo prima nei libri il funerale di Lena e la morte che nello show è solo apparente nei libri è effettiva di Lenor sono nell'anno 120 quindi si mantiene sempre questa forbice di 6 anni episodio 8 6 anni dopo c'è un altro grosso time skip quindi passiamo all'anno 132 dello show Sir Vemond chiede al re di nominarlo erede di Corlys Felan che è stato ferito nelle Stepstones proclamando come illegittimo il figlio di Rhaenyra Lucerys Renira e Daemon tornano in capitale per difendere le pretese del figlio mentre il re è costretto a letto e Alicente 8 hanno in mano tutte le questioni reali Renira propone due accordi matrimoniali con la casa Velaryon per ottenere il sostegno della principessa Remis e implora il padre di difendere la sua successione cosa che Viserys fa dichiarando Lucerys erede di Grifmark e Daemon viene decapitato da Daemon poi la famiglia sembra riconciliarsi in una festa in un banchetto ma Daemon incita a litigare di nuovo e alla fine muore Viserys mormorando parte del sogno di Aegon che Alicente crede errorivamente che si riferisca a suo figlio il principe Aegon come invece non è allora la morte di Viserys come sappiamo nei libri e nel 129 anno in cui di fatto inizia la danza nello show come dicevo la morte di Viserys e quindi l'inizio della danza sono piazzati nell'anno 132 c'è un gap di 4 anni il quale diciamo ce lo terremo praticamente per tutta la serie perché da qua in poi non ci sono più time skip quindi sostanzialmente la danza anziché iniziare nel 129 inizia nel 132 anno in cui sono ambientati anche gli episodi 9 e 10 il 9 è quello del concilio nero si va a recuperare Aegon lo si convince a rivendicare il suo diritto di nascita c'è l'incoronazione di Aegon e quella bruttissima scena della principessa Renis che insomma fa breccia nella sala con il drago vabbè e sempre nel 132 l'episodio 10 che invece è il concilio nero la morte della insomma della bimba che Renira portava in grembo nata mal formata e insomma i principi i jesse luke vengono inviati per assicurarsi le alianze delle grandi case uno nella valle a nord l'altra capotempesta e ovviamente c'è la morte di Luceris su Arrax in seguito da Diamond e Parker tutto questo ripetiamo nei libri a 129 nella serie 132 e così con questi con questo timeline iniziamo anche la seconda stagione perché come già c'è stato detto tra prima o cioè tra prima e seconda stagione ma comunque in generale torre in poi non ci saranno altri timetripe quindi così siamo messi alla vigilia della seconda stagione questi quattro anni verranno recuperati togliendoli al regno di Aegon III molto senso è vero ha senso sì ha senso perché se no non ci troviamo poi con i conti con la ribellione di Robert no no infatti vanno ripresi in qualche maniera se no vengono male che significa però che Aegon III avrà avrà praticamente un'età cioè sarà in minoretà per molto meno tempo perché lui è sei anni non può reggare ai reggenti invece di sei anni in reggenza abbiamo due anni in reggenza due anni in reggenza però l'hanno fatto vedere secondo me è più una cosa che loro dicono vabbè quattro anni li recuperi tranquillamente prendendo un anno qua e un anno là un anno qua un anno là perché Aegon l'hanno fatto vedere poi è una questione di cui non parleranno banalmente però Aegon l'ha fatto vedere molto piccolo quindi è vero effettivamente non lo so dipende da come la vogliono gestire perché poi la danza secondo me funziona anche molto perché è estremamente concitata come guerra cioè targare sia i neri che i verdi non si fermano mai a pensare praticamente se non proprio alla fine la danza e questo è anche il motivo per cui si distruggono praticamente senza rendersene conto sì è il sottotitolo della danza non mi fermo mai a pensare sì 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 no ma è vero cioè se ci pensate con un po' di intelligenza al decimo drago che ammazzi forse ti renderei conto che stai facendo estinguere il più grande capitale bellico è la tua dinastia invece il fatto che questa guerra duri due anni tutta una serie di scelte che prenderà anche successivamente Renyra sono dettate proprio dai momenti concitati sì tecnicamente anche dopo la morte del primo presti fermarti e dire ok muoveremo ma in quel momento posso capire incazzatura però per esempio si può giustificare solo con la concitazione del momento la rivolta di Aprodor e Re lei che ritorna a Dragoson piuttosto che in un qualunque altro posto del mondo in cui comunque aveva un sacco di alleati cioè non ha molto senso per esempio quel passaggio lì se non dicendo vabbè all'improvviso dovendo fuggire velocemente in una danza in cui non ha mai riflettuto bene fin dall'inizio perché non si è mai potuto fermare l'unica cosa che può funzionare è tornare verso Dragoson perché lo senti come il posto in cui si è nascosta già una volta insomma va bene andiamo alla seconda stagione alla timeline che avremo da ora in poi questo è per dire che sto avvisando tutti che questi sono spoiler selvaggi c'è proprio una roba quindi veramente se non volete sapere niente oltre questo punto staccatevi se non volete sapere proprio cosa sappiamo sulla seconda stagione da ora in poi ciao ci vediamo per i commenti finali del video arrivederci se non volevate sapere nulla siete arrivati neanche qua però ora c'è proprio la seconda stagione cioè nel senso sì perché Aegon III sale sul trono alla fine la danza dei draghi può essere consigliato uno spoiler una volta non l'abbiamo detto se qualcuno ci ha detto eh ma è uno spoiler sì vabbè senza stare a rivangare sì è successo ma sapete anche che alla fine i Targaryen muoiono tutti la dinastia crepa spoiler vedi quando gli dovranno rivelare che Eris il folle viene ucciso a Jamie Lannister a questi a voglia come protesteranno per lo spoiler questo Eris muore sono robe pesanti mamma mia o che Bran diventa re cose proprio pesanti che nessuno sa allora gli eventi allora io come siamo divisi la timeline degli eventi da questo punto in poi io e Filippo fa ridere come so siamo divisi nel senso che Filippo parla di quello che avviene nelle terre dei fiumi e invece mi sono preso la terra e la corona e l'alto piano chi l'avrebbe mai detto che divisione assurda cose proprio che su questo canale non si sono mai viste inaspettate immotivate completamente irrazionali assurdo che Filippo si occupi di una religione che detesta così tanto e che io parli della corona e dei fiumi proprio guarda solitamente quanto mi era mancato domenico quanto mi era mancato scusa io su questo canale tendenzialmente mi occupo di bravos quindi occupandomi di bravos tendenzialmente su questo canale era ovvio Filippo si occupa delle città libere perché gli piacciono così tanto come io mi occupo di valire assolutamente io l'ho detto io aspetto i capitoli di Daenerys per imparare qualcosa su esso pensavo impiccarti no 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 perché una parte di me pensa che approfondendo perché fa parte della cultura generale Asoy a facere un perazzo esatto esatto esattamente sì 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 cioè per me dopo le Stepstones cioè sei tipo il terzo film di Pirate ai confini del mare no c'è proprio il mare che lo strapiombo bravos ancora ancora perché ho anche di occidentale ma per il resto ovviamente non vi devo dire che c'erano due note da fare in tutta questa timeline sulle isole di ferro che ne abbiamo proprio eliminato la divisione che ci avevo fatti a Filippo c'erano due cose da dire beh è da dire che non risulta che nella seconda stagione dello show si veda in nessun modo le isole di ferro per carità ne abbiamo fatto le operazioni legittimissime togliendo dicendo che D'Alton Greggio è alleato con i neri cioè senza il fatto che non l'abbiamo detto è completamente in linea con quello che sta facendo la stagione tende a scordarsi di una casata di Westeros comunque no ma perché banalmente fino al dopo il banchetto dei pesci i Greggio non li vediamo giustamente no si possono tranquillamente introdurre più avanti sì cioè assolutamente a questo punto di vista figuratevi non abbiamo ancora introdotto l'altopiano quindi penso che passiamo i Greggio e possono aspettare perché l'altopiano è più importante dei Greggio è vero vero certo ok bene iniziamo allora timeline delle terre e la corona quali eventi avvengono da questo momento in poi nelle terre della terra e della corona e perché tra questi tra questi fiumi viene girata come dicevo praticamente tutta la seconda stagione allora ho fatto un elenco puntato cosa ci possiamo aspettare nei libri la morte di Luselis avviene il 129 in mare e con questa davanti capotempeste e con questa come sappiamo davvero inizia la guerra i due schieramenti sono formati e sappiamo che Daemon Targaryen ha preso a questo punto già nei libri il controllo di Arenal concretizzando quella tecnica di accerchiamento della capitale che prevede l'occupazione del Gallet da parte della flotta Verarion quindi del condotto che conduce verso il porto di Aprodo del Re la presa di Arenal che tiene la strada del Re da nord e l'eventuale alleanza con i Baratheon che però sappiamo non è andata bene che invece doveva circondare la capitale da sud in tutto ciò Daemon da Arenal tramite Misaria assotta da Aprodo del Re sangue e formaggio due sicari in metà sangue e sicario formaggio e una chiappa topi per vendicare la morte di Luceris mandando un maglietto a Rhaenyra in cui scrive un figlio per un figlio nei sangue e formaggio non sappiamo i veri nomi nei libri non ci vengono detti si dice che sono stati versi nella storia sappiamo solo che appunto il primo sicuramente era stato assoluto da Misaria e poi si era procurato il secondo il secondo tra l'altro formaggio è una mazzatopi che è stato nella fortezza rossa per un lungo periodo ciò significa che conosceva tutti i passaggi segreti per muoversi all'interno del castello formaggio però e questo è importante ai fini della storia conosce per lo più i passaggi segreti delle murazioni esterne ma non conosce passaggi che entrano nel fortione di Maegor tra l'altro passaggi nel fortione di Maegor pure ci devono essere però sono molto molto segreti per quel piano per provare a uccidere un figlio di Egon secondo si deve attuare al di fuori il fortione di Maegor la scelta ricade sulla torre del primo cavaliere tra l'altro piccola parentesi è su sta torre del primo cavaliere cioè è un qualabrodo stato entrano escono tutti quanti se ci mettevano una porta aperta era uguale nel senso veramente è il luogo base in cui ammazzano la gente tramite un passaggio segreto comunque la scelta va alla torre del primo cavaliere in questa torre infatti dopo la morte di Viserysi si è trasferita oltre 8 ai tower che ci ha sempre abitato la regina Alicent che occupa gli appartamenti nei primi piani della torre sangue e formaggio entrano durante la giornata nella stanza della regina madre la imbavagliano la legano una sedia e ammazzano l'ancella e aspettano che Elena la regina si rechi lì come tutte le sere con i suoi figli Geris Gera i due gemelli e Mellor il più piccolo per dare la buonanotte alla madre Geris e Gera hanno 6 anni Mellor ne ha 2 in questo momento è entrata Elena dentro la stanza fanno scegliere Elena quale dei suoi tre figli deve far morire sappiamo che Elena supplica solo uno può morire perché deve essere un figlio per un figlio Elena chiede di prendere la sua vita al posto di quella dei bambini comunque dopo una lunga serie di pianti la regina decide di far uccidere Mellor che avendo solo due anni avrebbe dovuto insomma soffrire ricordare meno e anche perché in questo modo probabilmente tutelava i due eredi diretti al trono la risposta dei due guzzini fu l'uccisione di Geris che ovviamente era anche insomma il più importante degli eredi dopodiché i due si volatilizzano tramite un passaggio segreto in seguito sappiamo che sangue fu rintrazzato dalla porta degli dei mentre andava verso nord per regarsi da Renald a Daemon e riscuote la sua ricompensa a contratto a testa di Geris nella sacca del cavallo e in questo modo la morte di Geris viene officialmente attribuita ai neri di cui comunque già si sapeva che potevano essere stati loro anche perché un figlio per un figlio lasciava veramente poco all'immaginazione con questi dopo questo evento Elena non si è mai ripresa davvero perde completamente il lume della ragione non che prima fosse un fulmine comunque resta incapace di avvicinarsi ai figli superstiti e si rifiute di mandare e bere per giorni ti faccio una nota qua riguardo la seconda stagione della serie tv sappiamo già dai vari spoiler che c'è un piccolo cambiamento rispetto ai libri nel senso che la demon non è già quando ordisce la trama di sangue e formaggio si 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 lo dico ci arrivo dopo lo dicevo anch'io no no c'è prima la parte la timeline e poi c'è il libro e poi c'è il resto molto semplicemente no per cui c'è questa cosa allora negli stessi momenti in cui la situazione in capitale non è tranquilla per la serie di ragioni che ho evidenziato tra cui appunto è accerchiata quindi non arrivano ad errate agricole né da terra né da mare anche a sud le cose non vanno bene perché i verdi avevano pensato che l'altopiano si sarebbe schierato totalmente con loro ma in verità si trovano anche la strada delle rose bloccata da Tarly Rowan Bisbury e Kostain che cercano di contestare nella stessa parte sud dell'altopiano Aegon II cioè Aegon II essendo di famiglia Hightower in parte si aspettava che l'altopiano si schierasse con lui ma anche la parte più sud dell'altopiano tra cui gli stessi vassalli degli Hightower cercano di ribellarsi e si dichiarano alcuni di loro fedeli a Rhaenyra restano praticamente in mano a resta in mano Aegon II la potenza militare di Arbor quindi perlopiù la flotta dei Redwine e la flotta l'esercito da terra degli Hightower che noi negli eventi della saga principale sappiamo che non è altissimo gli Hightower non hanno una grande forza ma in questo momento viene fuori dei Linda Fire and Blood che devono aver avuto un grosso esercito solo la battaglia in tutto ciò i Terell non si schierano anche perché in questo momento il Lord Terell è un bambino e la madre che detiene il potere al suo posto decide di non schierarsi proprio perché la situazione in alto piano è da guerra civile praticamente solo la battaglia del vino e del miele con Daryon Targaryen quindi il più giovane figlio di Alicent e Viserys che non vediamo nella serie e Hightower cugino della stessa Alicent e il Lord di Alta Torre riesce a fare in modo che la parte più sud dell'alto piano almeno quella resti nelle mani di casa e Tower questa situazione però come dicevamo blocca invece il nord dell'alto piano le derrate del nord dell'alto piano facendo in modo che queste non passino Ponte Amaro e non possa arrivare verso la capitale questo provoca delle forti rivolte popolari in capitale tra l'altro questi eventi preparano alle due battaglie del Tumbleton che vedremo più avanti in questo contesto l'unico alleato veramente potente che Otto porta dalla parte dei venti e dei verdi scusatemi è la triarchia che si muove però molto lentamente cioè questa alleanza di città di Essos che è lì soprattutto perché ce l'ha molto con Daemon Targaryen dopo la guerra e le steps quindi pensa che appoggiare un'altra parte politica piuttosto che Daemon avrebbe comunque un suo senso e potrebbe portare dei risultati per loro Aegon ovviamente è estremamente stanco anche perché Aegon II è estremamente stanco anche perché in questo momento oltre a perdere un figlio siamo sempre al 129 oltre a perdere un figlio ha anche praticamente tutto il regno contro di quasi tutto il regno contro di lui se non le Westerland e le Terrell Ovest e l'Hannister che restano saldamente in mani verdi insomma Aegon quindi rimuove suo nonno Otto dal primo cavaliere e mette al suo posto Ser Criston Cole che invece è più determinato a combattere i primi dei territori che si siano schierati con i neri una prima idea di Criston Cole è provare a uccidere Rhaenyra che colpo di genio la guardia reale di cui Criston è comandante si era così divisa tra i verdi e i neri ripetiamolo Marbrandt e Rick Cargill erano già a Dragostone a difendere Rhaenyra e a questo si è raggiunto in seguito se Stefan Darkling e qui sono delle differenze della serie perché invece nella serie Marbrandt e Darkling sono già roccia il drago e poi si aggiunge Eric Cargill i tre forma il nucleo della nuova Kingsguard gli altri quattro invece sono Ser Criston Cole a Rick Cargill Ser Rick Ricard Thorne e Ser Will Sfell che si schierano con Aegon II a Kings Landing proprio però Ser Rick viene inviato a Dragostone per le fattezze ovviamente simili al gemello e quindi avrebbe avuto più facilità di intrupolarsi caso vuole che i due si incontrino in un corridoio del castello e si sfidano a morte uccidendosi reciprocamente tra l'altro questo è il momento in cui come vi dicevo abbiamo la doppia versione sia di quella di Fungo che è una invece più ufficiale in cui i due ci sarebbe stato questo scontro lunghissimo durato un'ora in cui la gente si era carcata per vedere e alla fine si uccidono reciprocamente non potendo nessuno primeggiare sull'altro Fungo invece ci dice che questi insomma hanno litigato e se la sono data di tanta ragione in due minuti lo scontro è finito anche perché si odiavano tra di loro vedremo insomma la serie cosa farà a questo punto anche perché sembra che l'evento insomma è confermato della serie in questo momento in Fire e Blood vengono anche inseriti i personaggi dei semi di drago in particolare si inizia a parlare di Adam Duhul che prende Sismock Call sempre Criston Call visto che il tentativo di ammazzare Nira non gli è andato bene sempre nel 129 cerca di avanzare con le forze terrestri dalla capitale per sottomettere la corona e così allora che cosa succede spiego un attimo come abbiamo detto più volte e come stiamo trovando a dire ci troviamo a dire più volte anche per la serie principale la capitale si regge ovviamente sulle derrate che salgono all'alto piano che scendono dei fiumi ma le derrate di prossimità che ha più vicino sono quelle degli Stockworth e dei Rosby che sono esattamente fuori la capitale queste casate si sono schierate con i neri Sir Criston quindi per provare ad assicurarsi delle derrate alimentari per la capitale per non avere i nemici praticamente fuori le porte visto che Rosby è a meno di un giorno di cammino alla capitale cerca di prendere questi castelli e ci riesce praticamente senza colpo ferire dopodiché Cole prende l'esercito e marcia sulla città di Duskendale a nord di Approdurri dove i Darklyn hanno sostenuto i neri Aegon tra l'altro con secondo con Sunfire muove con un esercito composto da circa 300.000 uomini di cui 2400 dovrebbe essere la capitale e la restante parte sono Rosby e Stockworth che si sono uniti Duskendale è presa Duskendale è presa saccheggiata e entrosera le navi bruciano nel porto perché Sunfire ha fatto anche lui il suo con una certa velocità l'esercito con il drago si dirige a questo punto verso Rook's Rest dove Lord Southon si era schierato anche lui più a nord verso i neri il lord però riesce a inviare un corvo alla roccia del drago chiedendo aiuto già quando si rende conto che le truppe hanno preso Duskendale le truppe dei verdi hanno preso Duskendale da qui da roccia del drago anche se qui in verità allora che in aiuto di Lord Southon si dice che giunge Rhaenys che Rhaenys con Melis quindi la regina che non fu col suo drago fosse a roccia del drago non è detto perché è probabile che lei stesse comunque controllando il Galette in questa fase cioè fosse quello il suo ruolo bisognerebbe effettivamente capire e approfondire questa cosa comunque aggiunge Rhaenys con Melis lo scontro non è semplice fin dall'inizio perché l'esercito di terra dei verdi a parte che l'esercito dei neri praticamente terra non esiste ma l'esercito di terra dei verdi ha arpioni e scorpioni e Sunfire sa essere un drago molto aggressivo che sputa molto poco l'abbiamo visto poco nella serie ma viene detto più volte nei libri che è estremamente aggressivo in aggiunta a Sunfire tra l'altro arriva Vagar con Eamond la combo Sunfire e Vagar non dà scampo a Melis e a Rhaenys cosa succede? da quello che sappiamo a un certo punto Melis riesce ad afferrare al collo Sunfire che contemporaneamente ferisce la draghessa allo stomaco tra l'altro mentre Sunfire sta sputando fuoco quando all'improvviso sui due draghi dall'alto piomba Vagar che è immenso come abbiamo visto è mille volte più grande di Sunfire ed è anche più grande di Melis e li manda tutti e tre a terra Vagar che sta sopra si rialza mentre Melis muore sotto con la sua cavalcatrice Renis che muore praticamente bruciata tra l'altro è probabile che fosse già stata bruciata dal fuoco di Sunfire prima di cadere a terra Aegon II che era a cavallo del suo Sunfire ha praticamente tutte le ossa rotte e ne esce semiparalizzato tant'è vero che viene riportato in capitale in uno stato praticamente semivegetativo Sunfire ha un'ala quasi completamente di velta per cui resta Rooks Rest con delle guardie che lo possano custodire e fare in modo che i neri non vadano tramite le sortire notturne a provare a ucciderlo cosa è comunque Lord Mewton proverà a fare a un certo punto anche se con scarsi risultato perché se Sunfire è a terra comunque sputa un bel fuoco insomma a questi eventi che comunque al di là del Aegon II che praticamente deve essere tenuto in vita con la tipa vavera non riesce a essere non riesce a essere sveglio tant'è vero che diventa protettore il reame in questo momento il fratello minore Eamond che tra l'altro si era reso anche corresponsabile insomma alla fine di Aegon II è però un successo dal punto di vista militare perché le terre della corona sono tornate totalmente in mano ai verdi a questo punto c'è un trionfo in capitale vengono portati gli Stockworth i Rosby i Saturn i Darkly che non sono stati decapitati praticamente a Duskendale vengono portati tutti quanti in capitale insieme alla testa di Melis che viene tra l'altro portata in trionfo questi sono più o meno gli eventi che accadono che dovrebbero essere proprio nella timeline della seconda stagione vediamo ora come vengono utilizzate e come vengono messi praticamente dalla serie televisiva come vengono messi in scena o probabilmente verranno messi in scena dalla serie televisiva diciamo che molte cose le apprendiamo ci basiamo un po' su quello che è uscito ma anche sul trailer allora il primo episodio si dovrebbe chiamare tra l'altro a Son for a Son e nella prima puntata vediamo pronto sangue e formaggio blood and cheese perché nella seconda poi abbiamo quindi abbiamo tutta la scena con Elena dovrebbe essere abbastanza simile e nella seconda abbiamo il funerale del piccolo Jeris che dovrebbe essere anche il momento in cui avviene una rivolta popolare perché abbiamo le scene in cui gli abitanti di Fonde e le Pucci infatti cercano di tirare della frutta marcia sulla carrozza reale con Alice e Elena sempre nell'episodio 2 vengono uccisi per ogni re tutti i cacciatori di ratti e c'è il duello descritto tra i fratelli Cargill dovremmo vedere tra l'altro dal trailer già nell'episodio 2 Adam Diul che riesce a cavalcare Sismok il drago di Lenor Velani Lenor Velani è andato morto a questa data perché ci ricordiamo che c'è stato tutto l'escamotaggio insomma come ci diceva prima Bea nella prima stagione per cui Lenor è andato via non è ancora morto insomma nell'episodio 3 invece dovremmo vedere tutti gli altri semi di drago tra cui Hug Martello e Ulf il bianco che prendono il suo spesso non so se li vedremo tutti qua sappiamo solamente che dovrebbero vedersi Hug Martello e Ulf il bianco che sono residenti di Apparato del re ma probabilmente altri si vedono più avanti diciamo questi che sono più importanti magari vengono introdotti prima perché qui dovrebbero dovrebbero essere tre importanti introdotti in questo ordine Adam nel secondo episodio invece nel terzo Hug e Ulf nel quarto ci sono gli eventi di Duskendale a cui Criston e che abbiamo la scena in cui Criston col taglia delle teste e dovrebbe esserci anche lo scontro di Luxrest in questa puntata anzi probabilmente c'è anche in maniera abbastanza dettagliata si si la battaglia è stata girata ampiamente quindi si sono scelte anche delle cose insomma nel 5 abbiamo la parata in capitale con la testa di Melis vabbè anche lì abbiamo visto le foto insomma di quel grande coso verde che sembra fatto di plastilina che è invece la testa di Melis insomma e ci sono tutta una serie di condanni a morte emesse da Aemon come nuovo reggente che probabilmente comportano tutta una serie di lord della corona che si sono macchiati del tradimento e di essere rimaste alla parte dei neri e quindi vengono decapitati con l'episodio 7 invece le cose si complicano perché ci dovrebbe essere l'ingresso di Rhaenyra in capitale sotto mentiti e sfogli per distribuire cibo cioè la situazione è sempre quella che descriviamo e Rhaenyra da Dragostone dovrebbe riuscire a rientrare in capitale per distribuire del cibo alla popolazione infatti poi abbiamo delle scene in cui la popolazione ce la conega ogni secondo insomma a questo punto ce la coni verdi anche se appunto la popolazione approverà e resterà una pentola a pressione per tutta la danza dei draghi il 7 è l'episodio della semina quindi tutto quello che è stato introdotto prima poi si vede qua si esattamente tra l'altro una cosa che non ho detto all'inizio un figlio per un figlio nella prima puntata è effettivamente la cosa che spinge Daemon ad andare ad Rhaenyra anche se questo lo dice anche Filippo dopo cioè al senso è questo il momento in cui Daemon va ad Rhaenyra non prima come succedeva nei libri cioè è una posizione strategica che occupa dall'inizio ma lo occupa proprio perché Rhaenyra non voleva quel trattamento per i figli di Aegon II insomma per i figli del fratellastro probabilmente quindi ci sarà anche questa introduzione nuova nell'ottavo nell'ottavo episodio sappiamo che ci dovrebbe essere un incontro tra Rhaenyra e Alicent tra l'altro un incontro in cui Alicent dovrebbe regarsi lei a Rochelle Drago per provare a parlare con Rhaenyra e pensare a una divisione in due terreni per cui una si dovrebbe avere con sé alcune parti che le sono rimaste fedeli l'altra invece Aegon II invece dovrebbe avere l'altopiano e la corona ed altri territori che invece sono rimasti tipo la tempesta fedeli e verdi insomma per lo più non dovrebbe prendere il sud non dovrebbe prendere il nord molto semplicemente con alcune eccezioni poi abbiamo una serie di scene con cui per esempio vediamo Corlys che si mette un'armatura e sembra prepararsi una battaglia tra l'altro Corlys ha perso Rhaenys quindi non è proprio felice durante questi eventi e poi abbiamo una scena di Rhaenyra da Arl con Daemon che dovrebbe essere invece qualcosa totalmente inedito perché Rhaenyra non si sposta durante la danza praticamente da Dragostone se non quando vuole in capitale che però è tra un poco insomma invece queste qua sono nuovi appunti che la serie riesce a fare espandendo una serie di episodi rendendoli più sostanziosi in confronto a quanto in vita sono nei libri che poi questi eventi della seconda stagione sono 20 pagine insomma non sono tantissime comunque anche perché hanno appunto e spunto l'altro grande evento che era in questa fase della guerra che era la battaglia del Gallet insomma che è stato evidentemente tolto comunque o comunque non è stato preso per la seconda stagione ma è stato rimandato nella terza questa serie va così come l'altopiano è stato rimandato lì l'altopiano però appunto la battaglia Lone e Wine diciamo che è un evento comunque secondario lo sto dicendo io prepara la strada alle battaglie alla prima e alla seconda battaglia del Tumblr che sono effettivamente le battaglie importanti cioè quando si prova gli A Tower provano a forzare il blocco lungo la strada delle rose però insomma si può raccontare anche off screen non c'è bisogno davvero della battaglia Lone e Wine anche perché se non metti Daron è difficile proprio renderla insomma beh però Daron nella terza dovrebbe essere messa quindi la terza stagione quindi comunque probabilmente tutto l'altopiano è slittato non lo so allora io non sono convinto la faranno vedere cioè sono convinto che daranno no no qualcosa deve essere off screen però diciamo l'altopiano Daron insomma tutta questa serie di battaglie competenza della terza stagione diciamo chissà se allargeranno il gap a questo punto cioè nel senso che le differenzieranno su degli anni perché Lone e Wine è nel 129 nei libri quindi dovrebbe comunque o la sposteranno in avanti per cui come se l'altopiano si muovesse più lentamente in confronto agli altri territori giustificandolo anche col fatto che le truppe sono di più e quindi che è più difficile da simolarle oppure l'idea è che tu metti off screen dicendo ah c'è stata la battaglia dell'Oni Wine in questa stagione e poi nella prossima fai direttamente le battaglie del Tumblr secondo me sarebbe anche la cosa più intelligente meno spostare ulteriormente una cronologia su cui comunque hanno 4 anni di gatto perché qualcosa di alto piano in realtà lo vediamo cioè l'abbiamo visto che lo vediamo perché ci sono quelle truppe tower che marciano quello che c'è da capire è se loro fanno vedere che una prima serie di rinforzi high tower si muove in capitale e quello diventa il diciamo diventano le truppe di Aegon sì perché passa questa via che Aegon non abbia delle vere e proprie truppe se ci pensate non hanno praticamente anzi no cioè ora che ci penso non si vede proprio questa cosa no le truppe di Aegon sono queste high tower sostanzialmente sono quelle high tower perché quelle le truppe di Targaryen con l'armatura Targaryen sono truppe di Rhaenyra sì perché rimangono proprio come le si vede come guardie a Dragonstone eccetera quindi probabilmente fanno anche questa differenziazione lasciando passare l'idea che le truppe di Aegon siano gli high tower quindi forse lì c'è da capire se quelle truppe in marcia sono quelle che stanno arrivando da Prodo del Re per costituire il primo nucleo di forza di Aegon oppure se ci fanno vedere non è improbabile ma non è neanche probabilissimo dipende tutto da alla fine da come la gestiranno esatto il farci vedere che delle truppe high tower partono da vecchia città e quindi poi mi lasci intendere che nella prossima stagione io vedrò cosa succede a questo esercito che si sta muovendo con che pure può essere una soluzione dei verdi anche perché io non non so quanto c'è nel senso l'idea che quelle truppe poi vadano in capitale siano l'esercito di Aegon cioè facciano parte di quei 2400 uomini che Aegon ha con sé poi quando va verso nord non lo so che qui si risolverà un grande problema cioè capire se i Targaryen avevano in capitale un loro esercito che è una cosa che se ci pensate è anche un problema che ci hanno posti varie volte nei POV di Ned quando si parlava di Robert e si diceva Robert non ha mai truppe con sé in capitale ci sono le truppe Lannister ci sono le truppe c'è la Guardia Stark di Land ma non ci sono delle truppe dei Baratheon insomma e lì il problema è i Targaryen avevano delle loro truppe oltre le cappe dorate in capitale secondo me queste 2400 truppe di cui si parla nei libri a cui si aggiungono poi le altre dei Rosby e di Stockworth sembrano essere truppe Targaryen in capitale che poi sono rimaste fedeli a Aegon II quindi vorrei capire se vogliono costituire questo esercito oppure come dici tu Filippo potremmo fare in modo che Aegon II si appoggia su delle truppe ai Tower per la maggior parte e di evitare proprio il problema nella serie tv è questa seconda opzione perché a Rook's Rest ci sono le truppe che rimangono indietro le truppe sono ai Tower sono ai Tower ma sono ai Tower di Aegon poi si è vero se non sbaglio c'è anche qualche cioè ci dovrebbero essere i Targaryen a dire la verità a dire la verità ci sono anche degli uomini che hanno la giubba ai Tower scusate la giubba di Aegon II quindi questa nuova con il drago dorato su sfondo verde perché in effetti ci sono anche loro perché ricordo ora che anche quelli a cavallo ci sono alcuni questi però lascio passare l'idea sempre un po' ma io ho anche sempre pensato così sinceramente pensando anche alla alla caduta di King's Landing nel senso nel sacco di King's Landing quello d'opera di Tywin che i Targaryen abbiano avuto sempre in capitale delle guardie all'interno della fortezza rossa che è un po' come anche quelle che abbiamo visto in House of the Dragon più tutta una serie di cavalieri eccetera in città o nelle terre immediatamente vicine che sono al diretto servizio dei Targaryen però poi l'esercito Targaryen vero e proprio sia sempre stato composto dagli eserciti della Corona perché in effetti non hanno grandi territori gli abitanti di King's Landing non vanno mai a combattere ma è vero il che è strano tra l'altro cioè tra l'altro è strano che King's Landing non abbia una sua nobiltà cioè questo è un grande problema in realtà di questa saga cioè che la città non abbia delle sue famiglie nobili ma solo famiglie borghesi praticamente mentre i nobili siano tutti in campagna e nessuno di loro si sia trasferito non a corte ma in città è una cosa che a me almeno fa un po' strano cioè nel senso è sì è vero è vero è vero è una cosa che manca un esempio di questo l'abbiamo nella valle a Gulltown c'è la nobiltà di città eh sì capito è strano anche l'annisport è anche l'annisport è anche l'annisport c'è ma perché in realtà non è che non ci sia attenzione c'è ma è la famiglia regnante perché per Marti la cosa è c'è solo quella non c'è la nobiltà una città una famiglia poi la nobiltà che ci può essere ad approdo del re sono dei cavalieri eh però capito anche lì non vengono mai fuori mentre ad esempio è gente che sta a corte non stanno in città capito no no sì no no è vero eh vero quello sì però ti viene lasciata al più quell'idea cioè quello che ha sapete la la zona nord sì magari ha la villa lì poi sta a corte però risiede in città perché comunque anche ci viene fatto capire penso adesso non me lo ricordavo minimamente ma con Tyrion 1 e Sansa 1 poi adesso andiamo a vedere la fortezza rossa è piena è vero che c'è praticamente tutto l'altopiano lì sì però straripa di gente eh però bisognerebbe capire capito questa storia perché poi appunto da questo dipende il modo in cui i targani reclutavano l'esercito perché io per esempio il caso delle città medievali italiane cioè le città tu avevi delle famiglie nobili che potevano disporre di un tot di cavalieri e che quindi quando il comune doveva fare la guerra venivano chiamate alle armi e pensa a Giuberti a Firenze insomma ma i cavalcanti a Firenze nel senso sono rimaste famose altre città che non avevano questa nobiltà cittadina tipo per esempio Napoli non ce l'aveva per dire ma anche non ce l'ha Parigi in Francia perché sono regni estremamente basati su una capitale molto forte su un sistema fedale hanno però i borgomastri cioè hanno tutto un certo mercantile che in verità è costituito da cavalieri cioè quando ci sono le giaccherie a Parigi e ti è Marcel che è borgomastro di Parigi è sindaco di Parigi diciamo così dispone di un tot di armigeri e decide da che parte schierarsi durante le giaccherie e riesce a fare gli interessi e la città è strano che il re non abbia questa formazione ma perché da quel punto di vista appunto è una capitale molto forte con la famiglia reale che è la famiglia che domina sulla città poi comunque tu pensa che Martin semplifica perché a Lannisport ci sono i Lannister a Città del Gabbiano ci sono oddio Città del Gabbiano è un po' un'eccezione perché ci sono gli Arryn di Città del Gabbiano quindi ci sono delle famiglie minori però anche i Lannister di Lannisport lo sono capito? c'è da dire che i capitolici sono solo loro lì l'unica cioè effettivamente è una cosa non me ne vengono in mente tra l'altro anche gli esempi per esempio anche più persone più casate nella stessa città è Duskendale se ci pensi perché lì è tutta la città è vero è vero hanno tutti quei rami collaterali che si sono imparentati con la città quindi sì Darklin si sono estinti però in verità gli Howard ce ne sono tutte una serie di famiglie che stanno in giro per la città cioè lì è anche abbastanza presente gli Howard stessi ma a parte gli Howard hanno un piccolo feudo però per esempio il problema della città si dice quando ci arriva Brienne che ci sono tutta questa serie di famiglie che in verità vengono e Darklin hanno più rapporti collaterali con loro però che poi sì forse questa è una cosa su cui Martin non ha riflettuto non lo so io mi posso anche immaginare abbastanza facilmente che i Thorn ce li avranno anche i Feudine e le Terre della Corona però non sono fra le che io vi ricordo non sono fra le casate grandi delle Terre della Corona quindi non fatico a immaginare che loro vivano in città e abbiano poi i possedimenti fuori città però i Thor alla fine ci viene lasciato in tenda sono sempre a corte sì no ma è il classico il classico assetto che ne so anche qua della nobiltà siciliana che viveva a Palermo nei grandi palazzi e poi aveva il Feudo nell'entroterra nell'entroterra sì 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 è uguale comunque nella serie tv sicuramente passerà quell'immagine c'è quell'idea cioè Aegon le truppe che ha aveva in capitale perché ci ha fatto vedere anche con Viserys delle truppe c'erano Targaryen gli cambia semplicemente la giubba e via andare però sì verrà anche fatto capire forse proprio anche arriva un contingente per una questione di non so come dire di chiarezza per lo spettatore a dire guarda che da un lato hai i Targaryen Rhaenyra da sola dall'altro hai gli Hightower e le truppe che c'erano Targaryen da quel punto di vista mi sembra che House of the Dragon rispetto a Game of Thrones ci tenga tanto a chiarire sempre a dire queste sono le truppe che arrivano da qui queste sono le truppe che arrivano da là cioè basta vedere appunto le immagini sì le jubble in cui mi portano gli standardi cioè Rooksrest sapevano che c'erano quelle casate ci saranno quelle casate non mi stupirei anche lì sinceramente sono un po' curioso di vedere adesso non soltanto i fiumi perché vabbè questa è un po' la stagione dei fiumi ma anche poi l'altopiano il nord perché qualcosa vediamo anche già del nord è ovvio gli Stark li vedremo vestiti con il classico da Stark da Stark però e gli Arryn uguali probabilmente però mi ricordo se ci pensate alla serie tv in Game of Thrones i cavalieri della valle erano tutti uguali gli uomini del nord perché era l'esercito Arryn quindi erano tutti Arryn tutti uguali non c'era assolutamente differenza ma anche l'esercito Tarell ha tutto la erose non ci sono mai le distinzioni tra casate quindi io invece penso qui ne sono certo lo vedremo lo vedremo abbiamo già anche adesso andiamo a dirlo però i Lannister già sappiamo che ci sono i Lefford certo quell'immagine che si vedeva nel trailer io penso sia l'armatura che uscirà faranno vedere un'armatura specifica per i Blackwood e in realtà anche da quello che dalle foto che sono uscite dalla battaglia del Molino in Fiamme i Blackwood hanno un loro vestiario insomma questo sarà molto molto bello da vedere secondo me molto per chi ne sa anche un po' per piacere dello spettatore di vedere però però anche per chiarezza per far capire guarda che qui chi sta combattendo perché pensiamo anche questo per lo spettatore sono tutte battaglie lo dicevamo prima uno che vede dice ah ok qui lo vedo da come sono vestiti stanno combattendo questi e questi altri sì ma poi ad esempio quando vengono mandati al macello quelli delle terre della corona a Ruxerest lo spettatore deve poter capire che sono quelli che sono stati forzati a combattere per i verdi ma erano neri che quindi vengono mandati come sì sì massacro poi ecco sai cosa mi è venuto in mente probabilmente quegli Hightower lì che arrivano arrivano con Gwayne Hightower sì 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 no però in realtà ah sì perché Gwayne Hightower mi pare era in capitale quando è stato fatto il torneo sì perché è quello che viene buttato giù da Demon esatto però sicuramente sono passati moltissimi anni quindi non penso che sia uno che sarà tornato a casa esatto e le truppe saranno arrivate con lui certo sì e poi ci dicono che invece con Ormund ed Eron arriva tutto il resto sì comunque arriva insomma comunque tenta di arrivare sì sì doveva essere un video brevissimo noi ci siamo detti però un video breve no non avevo dubbio però abbiamo speculato questo sì sì c'è da dire che era la parte bella questa speculazione ma adesso speculeremo ancora un po' direi allora se vi ricordate la fine della prima stagione al concilio nero Daemon aveva già lasciato intendere di volersi recare con Caraxes nei fiumi ad Arenal per radunare le forze le ali appunto dei fiumi e debellare quelle che invece parteggiavano per i verdi ora vediamo cosa avviene in ordine questo in Fire and Blood primo evento è l'assalto ad Arenal come abbiamo già detto l'ha detto Beatrice l'ha detto Domenico Daemon conquista Arenal senza spargimento di sangue peraltro perché il castellano Sir Simon Strong che è zio di Lord Laris apre le porte del castello quando Caraxes atterra su una delle torri la torre della pirra del re la conquista del castello e la requisizione della ricchezza degli Strong sono un brutto colpo che porterà Egon II a sostituire Otto e Tower con Christon Cole dopo la morte di Lucerys Velary nella baia dei naufragi questo l'abbiamo detto quindi quando Daemon è ad Arenal nei libri manda un corvo a sua moglie Renira giurando vendette promettendo un figlio per un figlio e quindi poi c'è l'assassinio del piccolo Jairis ad opera di sangue e formaggio quando i due vengono uccisi da un lato e dall'altro i due principi le diciamo le due parti esplodono le due fazioni si scontrano vengono a guerra e abbiamo la prima vera battaglia che è la battaglia del mulino in fiamme e poi subito dopo la battaglia di Stonehenge la prima è fra entrambi in realtà però la prima soprattutto è fra Blackwood e Bracken che sono entrambi desiderosi di fare vendetta per la morte dell'uno dell'altro principe e combattono e combattono presso un mulino in riva al fiume presumibilmente la Forca Rossa quindi al confine fra i due territori e nello scontro Lord Samuel Blackwood il padre del futuro Lord Benjicot viene ucciso da Ser Amos Bracken a sua volta ucciso con una freccia nell'occhio poi dalla sorella di Lord Blackwood Alisanne Blackwood futura Lady Stark la battaglia viene vinta dai Blackwood e Ser Rylon Rivers bastardo di casa Blackwood guide e sopravvissuti di Bracken scusa sì di casa Bracken guide e sopravvissuti a Stonehenge che nel frattempo però è stata presa da Daemon e dai lalisti dei fiumi quindi i Bracken vanno verso Nord verso la Forca Rossa combattono con i Blackwood vengono sconfitti dai Blackwood pur uccidendo il Lord Lord Samuel tornano indietro a Stonehenge ma si trovano a Stonehenge già presa da Daemon e quindi si devono arrendere con la conquista di Arenal e la battaglia del Molino in Fiamme Aegon perde appunto ogni appoggio nelle terre dei fiumi i Lord dei fiumi in maniera compatta stanno per i neri si radunano ad Arenal per rispondere appunto alla chiamata di Daemon l'unica eccezione in realtà sono i talli che momentaneamente devono rimanere fuori dalla guerra a causa del disaccordo fra il Lord che è il vecchio Grover Tully di cui si è parlato già nella prima stagione che vorrebbe schierarsi per i Verdi in realtà questo è un successo di Otto in parte dovuto alla testardaggine di Grover Tully in parte Otto lo convince a schierarsi per i Verdi però il Lord è allettato è vecchio è malato a tenere le eredini in realtà di Casatalli e il nipote Elmo che con i due figli Kermit e Oscar vorrebbero invece appoggiare Rhaenyra quindi dato che il motto della famiglia è quello famiglia dovere onore non si entra diciamo in scontro con la famiglia quindi per il momento si rimane neutrali dopo la battaglia di Duskin e di riposo del Corvo quelli di cui ha parlato Domenico di cui abbiamo parlato fino adesso i Verdi considerano Daemon e Caraxes la vera minaccia per questo motivo Emon e Criston Cole cavalcano da Prado del Reverse sulle terre dei fiumi con un esercito appunto di circa 4.000 uomini supportato da Vagar tuttavia Daemon viene informato dei piani ben prima che i Verdi partano e si allontana per questo da Arenal che viene conquistato anche qui senza apparente fatica peraltro questo è il momento in cui gli Strong ad eccezione di Laris vengono poi tutti massacrati per ordini di Emon da Ovest giungono nel frattempo i rinforzi Lannister i lord dei fiumi occidentali quindi Vance e Piper in sostanza vengono sconfitti nella battaglia della Forca Rossa che diciamo per farvi capire è una sorta di battaglia dei guadi però i Lannister sono dall'altra parte stanno cercando di entrare nelle terre dei fiumi anche se nella battaglia lord Jason Lannister viene ucciso nello sconto per l'attempo Ser Adrian Tarbeck il nuovo generale delle truppe dell'Ovest guida l'esercito una serie di vittoriosi scontri nei fiumi ma viene ucciso sotto le mura di Sala delle Ghiande e il comando viene preso a questo punto dal vecchio ferito lord Humphrey Lefford ultimo atto diciamo per quanto riguarda questa fase della guerra l'esercito dell'Ovest arriva sulla sponda occidentale dell'occhio degli dei a un passo da ricongiungersi con Emon e Criston Cole ma vengono fermati nella loro avanzata a nord dall'esercito congiunto Stark cioè i lupi d'inverno di Roderick Dustin Frey di Lord Forrest e Blackfoot guidati da un bastardo di casa Blackfoot Robert Rivers a sud dalle forze sopravvissute agli ultimi scontri con i Lannister quindi Vance e Piper infine ad ovest arrivano altri uomini dei fiumi Lord Lefford si asserraglia in una posizione difensiva tenendosi alle spalle il lago ma alla fine viene sopraffatto l'intero esercito distrutto e la battaglia la battaglia presso la sponda degli occhi degli dei è meglio nota come il banchetto dei pesci ora cosa vediamo nella seconda stagione in che ordine già detto mille volte l'ordine di Daemon arriva prima della presa di Arenal quando Daemon si trova ancora a Roccia del Drago se ci pensate banalmente di questo abbiamo la certezza perché la notizia della morte di Lyseris dovrebbe arrivare quando Daemon è già partito invece se ricordate l'ultima scena è Daemon che porta la notizia a Rhaenyra l'assassinio sicuramente andrà a creare tensioni fra Daemon e Rhaenyra questo è facilmente intuibile per come hanno caratterizzato Rhaenyra soprattutto e il primo risolverà queste tensioni evitandole in sostanza e volandosene via in guerra la conquista di Arenal probabilmente la vediamo nel secondo episodio sì che non lo so se nel secondo o nel terzo nel terzo non lo so comunque ecco di sicuro non nel primo mi sembra ragionevole nel secondo io penso che magari vediamo solo quello nel secondo l'attore di Simon Strong ce lo abbiamo è stato castato però sì perché in questo secondo episodio c'è il mulino in fiamme quindi si ha Rhaenyra certo sì sì quindi sicuramente secondo episodio appunto perché nello stesso episodio ecco sì vediamo la battaglia molto meno probabile io penso che i due eventi vengano unificati e ha pienamente senso è la battaglia di Stonehenge di cui al massimo vediamo le conseguenze ma io penso che le cose in realtà vengano unificate quindi Blackwood e Bracken si scontrano i Bracken vengono sconfitti e a questo punto vediamo i Bracken che si inginocchiano o comunque viene detto che anche Stonehenge viene presa immaginate ecco immagino una cosa così ma non abbiamo basi su cui dirlo nella prima fase della puntata dell'episodio vediamo la battaglia del mulino in fiamme alla fine vediamo Daemon che prende a Arenal Daemon dovrebbe prendere parte anche la battaglia di Stonehenge ma arriva la notizia che i Bracken sono già stati sconfitti anche Stonehenge è stata presa ma è una soluzione che ipotizzo così nell'episodio 6 dovremmo vedere l'incontro fra le truppe Lannister e Lefford anche qui qualche immagine già ce l'abbiamo ce l'abbiamo dove si vedono appunto gli eserciti truppe guidate rispettivamente da Lord Jason e Lord Humphrey tra l'episodio 2 e l'episodio 6 probabilmente io penso banalmente per dare anche minutaggio a Daemon ci verrà spiegata un po' meglio la situazione nei fiumi quello che sta accadendo nei fiumi nell'episodio 7 ad Arenal si dovrebbe riunire l'esercito dei fiumi quindi Derry Mouton Malister Piper Vance Bracken perché appunto sono passati i neri Blackwood e in questo episodio Oscar Tully arriva a spiegare la posizione della propria casata quindi questa momentanea neutralità hanno scelto lui penso proprio perché sia il meno importante fra i tra i Tully del fra i Muppets della danza eh sì fra i Muppets sì esatto fra i Muppets della danza io non so come gli è venuta in mente questa cosa veramente per me risulterà in realtà è proprio è un easter egg solo che nel momento in cui ti fanno una serie tv in cui c'è della gente che ammazza l'altra gente e sono dei Muppets cioè che poi in realtà c'è di per sé così come nomi l'unico che no insomma trovo veramente brutto è Kermit sì Kermit è il peggiore Oscar è normale Grover Grover non so perché Elmo se non sbaglio ci sono anche nomi simili diciamo sì Elman però Elton è un genere sì 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 Oscar diciamo non è il massimo però è normale sì è normale è un po' nome sì esatto la cosa bella in realtà è che prendendo i colori escono i colori delle tre forche esatto sì 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 allora ecco quindi questo è quello che al momento sappiamo dall'X e indiscrezioni c'è di più sicuramente qualcosa io penso ci sia anche se non sappiamo bene cosa di sicuro dicevo anche prima nulla di troppo grande perché se ci fosse stato qualcosa di particolarmente grande saremmo venuti a saperlo è questo il punto come se fosse stato un banchetto dei pesci comparse su comparse qualcosa che devi girare evidentemente all'esterno lo venivamo a sapere quindi escludiamo tranquillamente il banchetto dei pesci anche perché io penso sarà la non dico la scena però il momento di introduzione dei lupi dell'inverno di Roderick Dustin sarà un po' ecco questa entrata in scena cavalcata trionfale quello che io penso vedremo verremo a sapere vabbè non è così importante è la battaglia della forca rossa perché è uno scontro decisamente minore così come i successivi ma ci muore Lord Jason Lannister se così fosse in questo modo la stagione si chiuderebbe con la posizione di demon Renira Darrenal minacciata a ovest dai Lannister che stanno arrivando poi noi sappiamo l'esercito ovest si sfalda all'occhio degli dei e da sud dall'esercito che a quel punto si muove fra Aemond e Kristen Cole io penso lo vedremo partire almeno questo esercito verso nord alla fine della stagione e anche perché io penso che vedremo questa battaglia o comunque ci verrà detto qualcosa di questa battaglia perché anche un ruolo in meno da far fare all'attore a Jefferson Hall che è l'attore che fa anche Thailand è vero che è sempre lo stesso attore non ci spendi molto a fargli fare due ruoli diversi però a quel punto non hai bisogno di averlo anche in set diversi ce l'hai banalmente sul set di di Apro del Re non so se diciamo nell'ambiente questo può essere effettivamente una semplificazione però a me sembra che la cosa regga più a un livello narrativo e sia comodo non so questo chiedo chiedo a voi come pensate finisca la stagione nei fiumi perché da quello che sappiamo ora è totalmente anticlimatico totalmente il climax della stagione però sono gli episodi sono gli episodi 4 e 5 mi sa quindi non penso è una stagione abbastanza strana perché è la prima parte di una più grande di quella che saranno poi le stagioni 2 e 3 quindi se il climax di questa stagione sarà nel 4 e nel 5 magari poi rallentano un pochettino ti lasciano anche un po' il cliffhanger per farti seguire l'altro esatto c'è più che un episodio di climax sarà secondo me un episodio di cliffhanger insomma preparatorio per come il finale della prima stagione lasciava intendere allora demon e renyra dichiarano guerra adesso si farà qualcosa anche qua insomma sappiamo che dovrebbero essere tutti ad Ardenal probabilmente pianificheranno l'attacco alla capitale insomma comunque ci sarà un concilio di guerra una cosa del genere ci saranno più che altro non mi aspetto un mega evento nell'ultimo episodio però appunto l'episodio quello proprio di battaglia puro dovrebbe essere appunto è il 4 quello di Rooksrest che tra l'altro è stato pure chiamato A Dance of Dragons quindi figuratevi ecco e poi ovviamente non dimentichiamoci che intorno all'episodio 7 così c'è la semina che pur sempre è un evento spettacolare e quindi non credo che ci sarà un grosso botto nel no 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 ma io non dico quello perché allora è ovvio che inizialmente l'idea era di avere il botto nell'ultima eh sì però è stato tolto con i Gallet esattamente era Gallet perché nella prima stagione fai morire un figlio e nella seconda stagione fai morire un figlio però vabbè lo sappiamo è stato tolto per necessità esatto è stato tolto io quello però devi trovare un modo in cui chiudere insomma quello che mi aspetto è di vedere allora la prima stagione è finita con un non dichiaro la guerra cerchiamo la soluzione di pace no la guerra va dichiarata perché viene ucciso Eusiris questa seconda stagione che è la cosa che allora sicuramente non deluderà perché sarà pirotecnica perché sarà bellissima da vedere questo è evidente però quello che secondo me lascerà ancora un po' così è che effettivamente queste sono le vediamo le prime scaramucce è una stagione di transizione è una stagione che finirà con a quel punto i due eserciti ben definiti per quello io dico io mi aspetto di vedere i Lannister che entrano nei fiumi che muoia o non muoia Jason Lannister io penso di sì perché sarebbe molto più insensato farlo morire dopo per quanto cronologicamente sia corretto perché la seconda serie di eventi che io ho detto avviene tutta dopo il Gallet e così sarà però ecco io vedere gli eserciti che partono ok quindi dire bene la prossima stagione è tutta guerra è solo guerra questo un po' me lo aspetto poi ovvio mancherà sicuramente troveranno qualcosa poi per dare un finale che non sia moscio devono evitarlo però sì non sarà nulla di di forte come è stato l'episodio come è stato l'episodio 10 perché manca manca qualcosa per fare o che non lo so ma accade qualcosa ma no non può accadere nulla sul fronte verde per dire la grande morte della seconda sarà Rhaenis sì sì e chi altro perché nella prima stagione ne abbiamo avuto due di grandi morti Viserys e Luserys non sarà a quel livello lì cioè nel senso io poi nella terza stagione mi aspetto un Jace se la vuoi chiudere la chiudi con l'occhio degli dei sì allora il fatto è che la seconda stagione doveva essere uno della vecchia generazione e uno della nuova ugualmente cioè Rhaenis e Jace ovviamente Jace è stato spostato quindi non penso che si aggiunga chissà che altra morte resta in tutto questo manca il tipo il nord però vabbè è perché del nord abbiamo pochissimi leak è perché non dobbiamo sapere del nord semplicemente non dobbiamo sapere sì poi quel poco che sappiamo l'abbiamo raccontato nei vari video analisi trailer se volete andarlo a recuperare la live sul trailer ma comunque si sa poco sì ad esempio anche pochi sono dei libri perché non c'erano né Fungo né Eustace né tutto il resto quindi scopriremo quello che succede al nord con House of the Dragon però sappiamo che lo vediamo Winterfell sì sappiamo che vedremo Winterfell sappiamo che probabilmente sarà la gold opening del primo episodio che sorpresa bla 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 ecco chi sia al nord la chiusura col botto della seconda stagione no una cosa una cosa una cosa io ci penso cosa potrebbe essere anche ci ho pensato però è una cosa c'è pensate un noi abbiamo un Jace che starà al nord tutto tutta questa stagione lo vediamo perché sicuramente ci vogliono io penso ci faranno affezionare tanto tanto a Cregan sì ok va bene a Cregan e a Jairis no Jairis torna 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 sì 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 cioè al limite il grande no non lo so che cosa potrebbe potrebbe essere il nord però io non le voglio nominare quello che ho pensato io che potrebbe essere il finale di stagione non lo so una cosa tu dici molto al nord una cosa molto molto al nord basta no perché capito io anche lì mi immagino al nord come lo vuoi far no no è c'è purtroppo è una sensazione forte è possibile una sensazione una sensazione forte non lo diciamo per scaravanzire non lo diciamo per scaravanzire esatto anche perché c'è questo problema è qualcosa di forte ripeto anche non può essere le cose forti che sappiamo dai libri perché non c'è nulla di forte dai libri no no non c'è nulla però più ogni stagione è sempre finita anche quando finiva con i cliffhanger erano dei forti cliffhanger non era mai infatti questa sarà raga vabbè secondo me secondo me avrà molto le vibes da oddio cos'era era la sesta sì era la sesta che finiva con le navi ok le navi che vanno è esattamente quello a cui sto pensando non delle navi ma qualcosa che parte per arrivare a sud no e beh però c'è vorrebbe dire che ci ha messo 180 anni è un po' è vero è vero no però pensa che stanno passando l'incollatura ah no no perché stavamo pensando agli strani no 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 io mi immagino che l'ultimo episodio ci farà vedere un po' appunto nel sette vediamo l'esercito dei fiumi che si raccoglie ad Arenal fine del settimo ottavo appunto magari quello dei Lannister che si muove e quello di Christon Cole ci fanno vedere ancora qualcosa di dell'alto piano che si muove e del nord che scende bene o male questo secondo me ci verrà fatto vedere intuire in qualche modo magari non vedere del tutto perché sono comparse i costumi che ti puoi evitare per una stagione successiva non lo so questo però manca sempre quel eh però guarda che si è per vedere loro loro sarebbe un non lo so un bam voi spettatori di Game of Thrones rieccoli rieccoli ve li faccio vedere ora e non ve li faccio rivedere più bentornati no no non lo so cioè secondo me sarebbe già una chiusura di effetta tipo gli Stark che passa dal Motkaillin e scendono sulla strada rialzata cioè secondo me sulla strada alta cioè secondo me no che cazzo strada alta però è la strada del re sì la strada alta è quella degli armi eh no pensavo alla strada del re nel punto in cui attraversa le paludi però appunto guarda dove si innesta poi la strada alta è fatta bene però anche lì cioè pensate alla chiusa di Daenerys sulle navi che parte pensate alla chiusa con tutti gli eserciti che si muovono verso uno stesso punto che è convergente per tutti quanti eh sì potrebbe starci potrebbe starci molto meglio di quello che diciamo supponiamo una voglia allora però dico io che ce li facciano vedere non alla fine ma che ce li facciano vedere prima no allora la forte sensazione è ci sono nella seconda stagione qualche accenno c'è perché c'è il patto e c'è il fuoco accenni palesi ma secondo me accenni palesi accenni nel senso con un'immagine sì assolutamente accenni con un'immagine l'altra cosa che manca è la valle sappiamo che a un certo punto una delle due delle due gemelle va che non ricordo mai quale scusatemi però re navale la valle si re navale la valle si porta il giovane egon eh sì 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 che anche questa è piccola piccola sì vabbè il futuro giovane egon di anche il problema di questi bambini è che nello show sono piccolissimi sì ma qui ricordatemi cioè sono abbastanza sicuro della cosa egon nei libri non va nella valle perché poi viene mandato al di là del maestro qui abbiamo una differenza un egon che rimane nella valle perché la valle è incredibile chi lo sa dipende tutto da come vogliono gestire il garlic e non sappiamo come vogliono gestire il garlic questo è uno specchio di quello che saranno poi Sansa e il giovane sweet Robin quindi vedremo come si esattamente palese palese bene esattamente allora questo video ha due ore di video e due ore di video e due ore di discussione praticamente allora io una piccola chiusa prima di davvero diciamo prima di darci appuntamento alla prossima volta ok va bene meglio vorrei specificare proprio gli anni dei protagonisti della danza perché a volte sfuggono non sono abbastanza chiari così giusto per rinfrescarci la memoria nel 129 quando inizia tutto nei libri abbiamo Rhaenyra che ha 32 anni più o meno l'età di Cersei Daemon che ne ha 48 Corlys che ne ha 76 tra l'altro vivrà ancora una vita lunghissima lunghissima Rhaenys che ne ha 55 Jace ne ha 15 Luke ne aveva 14 Geoff 12 Aegon terzo 9 Visei il secondo 7 Alicent ne ha 41 8 ne ha 53 Kristen Cole è un 47 non cambia mai lui fa lifting esatto senza età taglio di capelli esatto poi abbiamo Aegon secondo con 22 anni Aemon ne ha 19 ed Elena ne ha 20 Daron il piccolino di casa ne ha 15 tanti quanti Jace poi abbiamo Craig and Stark che è sempre raffigurato come il vecchio di turno che in realtà ne ha solo 21 di anni giovanissimo che sarà così meno male e sarà così nella serie l'hanno preso giovane non so se voi avete presente scusami Chiara proprio brevissimo quell'illustrazione di Fire and Blood di Cregan che parla con Aegon III ed è tipo questo 50enne enorme barbuto che gli fatti così con le mani ecco quindi meno male meno male a 21 anni poco c'è tipo un maggiorenne negli Stati Uniti poi abbiamo Kermit Tully di 17 anni ed Elmo Tully di 29 e qua c'è l'appunto l'appunto di Filippo e Martin si droga e io sono messo fuori dalle grazie divine perché non può essere no Elmo secondo me ne ha tipo 35 attorno ai 35 sì è possibile contando che Grover ne ha un'ottantina quindi ci sta ci sta ci sta qua Wiggy per favore correggi perché non si può sentire 12 anni se vai a vedere nei calcoli dicono proprio beh contando che Elmo per aver generato Kermit doveva avere 12 anni oh cioè io capisco anche che può succedere una cosa del genere ma anche no dico vabbè eh anche no anche no eh l'ultimo è Benji con Blackwood che ha 11 anni quindi capite che praticamente sono bambini che giocano alla guerra sì è estremamente vario perché poi vai da questi 80 anni da Corlys che è effettivamente troppo vecchio per fare tutto quello che fa a questi che sono estremamente giovani lui è nato tipo a metà del regno di Jairus e ma Corlys si porta bene ho capito ma muore a 200 anni però voi vi ricordate ho capito noto ora lo stesso problema di Elmo e Kermit c'è anche con Alice sente 8 8 un altro padre precoce secondo questa timeline vero perché se lei ne ha 41 e lui ne ha 53 c'è qualcosa che non va quindi se anche qui 8 sicuramente 63 aiuto sì una sessantina sì una sessantina anche perché il problema è che poi lui dovrebbe essere salito per diventare primo cavaliere negli ultimi anni di Jairus quindi era primo cavaliere a 12 anni più o meno e contando che Alice è giovanissima quando 17 18 quando ne ha 17 quando 17 ha anche meno quando accudisce no ne ha meno molto ne ha tipo una quindicina ne ha una quindicina 15 anni quando accudisce Jairus sì sì no quindi qui mentre devo dire alcune effettivamente sono state rispettate dalla serie ma gli attori non te ne fanno rendere conto cioè Rhaenyra Damon ci sta è come età ci sta benissimo però Damon sembra più giovane è perché Matt Smith ha 40 anni perché Matt Smith si sembra più giovane di quello che è è ma soprattutto perché è sempre stato Matt Smith è questo il problema sì esatto è sempre stato così come Otto sì ci sta con i 50 anni ma Otto glielo do i suoi 60 glieli do sì sì ma ce li ha da 60 anni ce li ha da 20 anni nella serie no è vero è vero che nelle prime puntate sembrava più giovane sembrava un quarantenne ma sembra più invecchiato per la stanchezza cioè sembra più affaticato che stanchezza è stato invecchiato per la stanchezza il lavoro di invecchiamento migliore l'hanno fatto col povero col povero Strong tu l'hai già capito perché cavolo lui è ingrassato ha perso i capelli vedevi negli occhi la stanchezza di vivere lui l'hanno invecchiato bene mi amacci tu al mondo con due figli del genere comunque no 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 infatti il primo c'è un felicista cioè il secondo che evidentemente ha dei problemi molto seri senza voler fare kick shaming ma ha dei problemi estremamente seri è il primo che rischia tutti i giorni la testa sul patibolo per altro radimento andando a letto con la principessa eri al trono prova a non farteli venire i capelli bianchi farteli cadere no 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 farteli cadere esatto secondo me se li è strappati lui stesso ecco sì 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 Arwin un altro no sì quando arriva l'ultimo proprio lo vedi che no ti prego no ti prego due senza tre va bene va bene va bene ragazzi allora ringraziamo tantissimo i nostri patreon lorgiando le dichiara b le dichiara b male di amata male di cristina male di marta male di maura male di saia male di virginia e la damagrigia male di madagrigia poi abbiamo ser filippo ser giovanni e ser marco b emanuela francesca e val e poi gabriele e andrea grazie mille a tutti i ragazzi per il sostegno come sempre grazie mille grazie di cuore le fonti che abbiamo usato come sempre le lasciamo qua sotto in descrizione mettete like al video condividete iscrivetevi al canale attivate la campanella e noi ci vediamo la prossima volta ciao ragazzi ciao ragazzi ciao